Un saluto agli amici del Ring dei Tifosi e i complimenti per la trasmissione, una trasmissione che sembra fatta su misura per me, perché Genova, Perugia e tantissimi altri posti che ho vissuto o da protagonista direttamente lì o da avversario, quindi bella, complimenti, complimenti anche perché poi riuscite a creare una bella atmosfera dove si parla di calcio in maniera tranquilla e serena, dove si trasmette la giusta passione ma con lo spirito giusto. Mi piace, veramente, complimenti e forza Ring dei Tifosi! Ciao, io sono Maragoschi e Tifosi Juventus. Io tifo Roma, solo io tifo Roma. Io tifo Benevento. Sono Giovanni e io tifo Lecce. Alla Madrid! Ciao a tutti, sono Gianluca dal Brasile e tifo Perugia. Io tifo Cosenza. Tifo Juve. Io tifo Inter. Io tifo Lazio. Io tifo Inter. Io tifo Inter. Io tifo la Roma. Io tifo Napoli. Io tifo Juve. Sono Elia, vivo in Florida, tifo Spezia dagli anni 90 e sono speziato. Io tifo Lazio. Io tifo Sampdoria. Io tifo Rabo. Io sono Giulia e tifo Juventus. Io tifo Sampdoria. Io tifo Bologna. Io tifo Bologna. Io tifo Napoli. Io tifo Juventus. Sono Scorpio nel 1981. Faccio parte delle ringhe dei tifosi. Sono un tifoso interista. Ci vediamo là. Ciao. Io tifo Inter. Io tifo AS Roma. Forza Inter. Forza Inter. Io tifo Genoa. Io tifo Lazio. Io tifo Inter. Ora, sono Daniel e sono un tifoso dell'Atletico del Modello. Io tifo S. Romano. Io tifo Cagliari. Io sono Laura e tifo Juve. Io sono Filippo Vello e tifo Palermo. Io tifo Inter. Ciao ragazzi. Io tifo Genoa. Io tifo Cagliari. Io tifo Regina. Io tifo Ferenzino. Dal vostro cartel e dal suo benedetto paradiso, ovviamente, io tifo l'Inter. E non importa come ero figlio. Se stiamo in l'amoratori, non rappresentiamo. Buonasera, buonasera. Io mi sono introvolato in questo format, esattamente come il calcio arabo, nel calcio che conta. Proprio così, con i soldi, a forza di soldi. Ma tu cosa ci stai fare qua? Qua parliamo di calcio vero, non di chiudere la tua squadretta. Vabbè, squadretta detto da uno che ti fa Genoa, però va bene, sorvoliamo su queste piccole... Facciamo entrare anche Daniel Albag. Eccolo qui. Un applauso. Alla cala cala cala. Alla cala cala. Oggi siamo qua per vedere la mia squadra, quella che ho costato per soli 3 miliardi di euro, ovviamente euro arabi, perché anche gli arabi hanno gli euro, per vedere questo football. Oggi il football ganerà. ragazzi siamo mai di esposito che già pronto guarda lo facciamo entrare eccolo qua muove di esposito chissà per quale squadra tipa lui è chissà per quale ciao ragazzi mamma mia se non ci arrestano oggi nel terrorismo sono i soldi dove stai andando? ma dove vai? che cazzo fai? aspetta c'è l'altro buono al Vlasic c'è l'altro buono guardalo Greg è lì che è la figura di merda che abbiamo fatto oh Greg dov'è finito? Cristiano Ronaldo a tutti ma non è uscito ma è uscito dal Qaeda questo non è uscito io mi dissocio ma guardate quell'altro una roba allucinante se volete rimetto la maschera di Cristiano no va bene così dai e poi facciamo entrare l'unica che non c'entra niente perché guarda che nome che ha ma cosa c'entra? perché noi a differenza di loro rispettiamo le donne e i diritti diciamo queste cose c'è Dimitri che ci saluta eh Alessandro ci saluta Andrea Giacomazzi c'è un po' di gente Dimitri non lo voglio salutare? ma ragazzi cioè questa è un'occasione d'oro qui si scrive la storia di Twitch Italia eh eh direi scusami io che sono a Bruca chi me lo offre lo spettacolo del genere? abbiamo le notti saudite Giulia tu come ti chiami? Giulia Giulia? non riesco a prendere lo seriamente con sta maschera grazie se ti può Mohamed no io sono comodo così grazie quando è che dai un po' le formazioni? eh io se volete già ci sono su OneFootball eh possiamo giornate le volete leggere? sì sì è certo ma cosa facciamo? allora anzi scusate allora vogliamo leggere le formazioni è un sì assolutamente prego sì nel dubbio Allah Allah ti ha sempre onorato sempre dai che se ci siete allora io ce l'ho qui eccolo qui partiamo dai padroni di casa Alilal con Bono in porta eh allora intanto giocano entrambi entrambi non lo so perché ma giocano con un modulo simile un 4-2-3-1 non lo so perché allora avrà visto Spalletti può essere il terzino destro dell'Alilala aspetta aspetta Vlasic mostra lì e quella è la cosa bella che è da leggere così almeno riusciamo a mettere la grafica vinci quella è la cosa bella ecco quella di diretta si vede? sì vai madonna sono emozionatissimo attenzione raga abbiamo attenzione occhio occhio è arrivato chi ha il coraggio di farlo entrare? anzi no giusto dillo tu Daniel visto che oggi sei tifoso dell'Alilal vai va bene ci penso io allora importa abbiamo Bonu prima dobbiamo fare entrare ragazzi va bene dai facciamo entrare ti dico io ti dico io tanto a sinistra abbiamo Alburac ah vabbè Mubarak abbiamo Bulayay Bulay Kulibari poi abbiamo Kulibari vabbè aspetta a destra c'è Abdullam vabbè vabbè questa è la difesa dell'Alil Alalala Alalil vabbè Aladin poi gli unici due che conosco io al centrocampo abbiamo Ruben Neves e Milinkovic Savic ora Malcom come hai fatto a dimenticartelo ma stava parlando del centrocampo ma lo voglio ricordare a destra abbiamo Aldawaisari poi abbiamo Malcom ma se non stai pronunciarli l'uomo con il cambio di idea più veloce del mondo non è Michael è Michelle l'uomino Michelle abbiamo sulla destra e poi in attacco abbiamo l'onnipotente Mitrovic questa è la formazione dell'Ali Lalla maggiore Cristiano Ronaldo e ora parliamo della formazione seria l'Ali Lalla avete presente Ederson Alisson ecco buttateli tutti nel cesso perché arriva Alquidi Alquidi il famoso portiere grande giocatore con i piedi poi a squadri piedi con la testa con tutto Laporte e la Giammi in difesa Tejes terzino sinistro Alganur terzino destro a Locacci doveva dire il Vladi dice le formazioni Locacci immediatamente a partire dalla sinistra Tejes centrali invece abbiamo Laporte e la Giammi poi a destra abbiamo El Gran Papo così al Gran Papo scusate al Gran Papo pure io dico io vediamo quello che è la mano del capo poi abbiamo al centrocampo Fofana e Brozo dice che il nostro caro Greg Salam Marcello Salam Malegu poi vabbè gli altri sono nomi normali ecco a partire dalla sinistra abbiamo Manè chi se lo ricordi e aspetto l'ultimo eccolo trequantista Ottavio eccolo potemi arrivare trequantista Ottavio a destra Talisca e in attacco poi il mister il grande ok scusate scusate guardate un po' mamma mia la volgarità comunque ragazzi scusate il disagio ma è tutto reale questo eh quindi non per dire tra l'altro Vinci lo stadio è quello dove abbiamo fatto la Grey Destroyer Rumble Crown Jewel ricordiamola quello lì dove abbiamo fatto dove abbiamo vinto la Supercoppa Italiana noi contro quelli là che non voglio neanche nominare ma noi chi è lo stadio di Riyadh sì no è la Lilal perché sono a Riyadh a Riyadh al King Fad Stadium per la precisione di Riyadh stadio di Crown Jewel è iniziato o no ancora ma qua c'è solo pubblicità madonna quanta pubblicità stanno facendo e vabbè ma d'altronde bisogna sganciare i soldi per vedere la Saudi League Gianluca giustamente 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 al Pagan dovresti mettere più che il Pagan al Pagan senti il problema è che dopo quello che abbiamo visto ieri è difficile commentare delle robe del genere ieri abbiamo visto un 9 a 0 che è tutto in programma ecco lo scaldamento signori Mitrovic occhio perché Mitrovic può purgarci Mitrovic è pericoloso Mitrovic è superiore Cristiano Ronaldo questa sera inizia a sognare tu qui beh allora ragazzi è il momento dei pronostici secondo me secondo me vinceranno i soldi io dico i soldi con i soldi 1 a 2 dai con fiducia Brozo vince Ronaldo io scommetto una delle mie sette mogli che vince la no Andrea Giacomazzi dove si può vedere la 7 la 7D la 7D guarda se tu metti se tu metti la 7D vedi le nostre facce che commentano guardate un po' i nostri ragazzi guarda che pubblico l'avete visto il pubblico mamma mia la 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 ma di cosa stiamo parlando ragazzi ma di che cosa stiamo parlando ma guardate che stadio scusate cioè guardate un po' lo stadio mamma mia è bellissimo intanto io mi sono oh intanto Enrici è però Enrici Enrici bisogna che metti un nome un po' serio questo qua non va mica bene l'amico l'amico fraterno di Ottavio mettiamo Enrici qualcosa del genere Enrici va bene così aspetta Enrici su ti prego dai scusate dai su no dai scusami ma vuoi vedere le nostre accontature guarda guarda che capolavoro qui che hai mamma mia pensate siamo di quelle cortone da 0 a 0 rompiamo le palle per due io invece vi dico che secondo me fa doppietta Milinkovic Savic porta ah però beh allora vorrei dirlo vorrei dirlo però hanno tutti i nomi pronunciabili si no lascia perdere Daniel cosa vede toccarlo anzi Mamed così vede io 1 a 2 doppietta Dimitrovic poi Cristiano Ronaldo Tavio e Talisca let's go leaders let's go leaders Alilal ma Neymar non gioca o si è rotto è il crociato Neymar è rotto Neymar si è fottuto si è fottuto il crociato Neymar è sempre rotto soprattutto quando arriva il periodo di marzo che c'è il carnevale da Rio Gian ma tu ne sai qualcosa di questa cosa Laiverti Laiverti Vito vorrebbe sapere come si chiama una delle sette come si chiamano le sette mogli di Dani di Dani Albatio si glielo ho messo ma lui ha detto che sono impronunciabili esatto le chiamo tu e quindi loro sanno vabbè fai come Nico i Sardi nel senso Sarrigna Parragarro una roba del genere più o meno Franco qui davvero il razzismo è a livelli over d'altro chi vi porta la Saudi League ragazzi in diretta ma chi ve la porta questo è un incentivo a iscrivervi tutti al ring dei tifosi ragazzi non so a che punto siete ma guardate la coreografia dell'Alnas io sono pubblicità dell'auto io sono pubblicità io e voi siete dietro di me eh ma tu mi sono dovuto registrare sulla set pure io anche io perché ho fatto molto maledetti ti registrano tranquillo vabbè gratis sì appunto io vedo Ronaldo adesso nel corridoio e sto vedendo il pubblico cristiano ingravitami no no dopo le scatture dopo le scatture mi sto emozionando ragazzi mi sto emozionando mamma mia che coreografie hanno scritto non so cosa Alakbar Alivisimari no Alakbar vuol dire Alà è grande non è niente ecco guarda che si abbracciano al Javari Javroni come si chiama si abbracciano qui ecco il pubblico dei let's go leaders gli arbitri che non lo so da dove sono ecco Ronaldo che si smarona un po' i pantaloni io provo a vedere seri ragazzi ma neanche per il Genoa soffro così vabbè non esageriamo dai io sono soddisfatto per me il Geno finisce stasera mamma mia il weekend finisce stasera il weekend calcista domani c'è Real Madrid di Granata ma chi se ne frega ragazzi io posso chiedere posso anche prenderne sette a Napoli non me ne frega niente oggi è il main event no basta basta ma è inutile ma dopo c'è la Juventus voi non so se avete visto Andrea la 7D la 7D su canale 29 la 7D non la 7 normale la 7D eccolo qua Almamed Ricci bravo ora ci siamo c'è un settore della parte come si dice per un ospite o quelli che pagano dove c'è l'aram delle prostitute quindi mentre si guardano le partite zazza zazza ma io mi dissocio da quello che ha detto sto mente catto ma per favore ma stai zitto è vero guarda c'è l'aram lì dove ci sono le prostitute le donine ma chi l'ha invitato sto al Vlasi io te lo dico sono come il calcio arabo si sta infiltrando così nel ma vai affanculo ma sapete cosa è che ora tutti cavalcano il calcio arabo quando lo dicevamo noi ci prendevano tutti in giro e adesso siamo arrivati noi adesso si ci vengono tutti in giro questi pezzi di merda ragazzi c'è la coreografia dell'Alilal che è fantastica alialato con spoiler kratos che è meravigliosa c'è Albano ragazzi sei un grande buonasera 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 io vengo dai a ne ho detto manco io ti lovo aspetta eh non mi vedo bene non c'era ok roba da strabuzzarsi gli occhi cosa ho fatto cosa facciamo ah no 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 ragazzi facciamo seri ragazzi la mia avventura su Twitch finisce oggi vado via come spalletti da eroe passatemi passatemi il link passatemi il link aspetta che vado a prendere il cammello eh ma ti devi registrare ma chi è L'Elia Danio attenzione qua ospita sorpresa non lo sapevamo chi è il cammello ah il cammello io sono un gatto arabo cammello chi è ma vada il portiere che è talmente grande che non riesce neanche a mettere questi guanti da solo ha bisogno dell'ausilio del compagno per farsi mettere i guanti cioè il portiere dal Nasr è tanta roba mi dispiace ma ve lo devo dire siete proprio belli stasera con questi vestitini grazie ma nessuno ha letto Mettila al vostro Albano sì Albano l'ho detto io ti ho presentato come Albano sì 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 però gli amici sono Ramengo 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 aspetta aspetta Mohamed cos'è che hai detto per gli amici Ramengo Ramengo ok via guardate la sala bar scusate l'avete vista la sala bar sono così evoluti che ci hanno guardate un po' il pubblico se lo sogniamo ecco i li fai dove la guardo minchia ma accetti con la 7 di Albano alla 7 di minchia che pubblico ragazzi Albano guardi la chat privata gli ho inviato il link si registri alla 7 come registro sta parlando con sua moglie effettivamente come registro quale delle sue moglie scusami con quale dei miei documenti Albano ma gli metti metti i registri con google o con facebook dai quello vero o quello fai quello che vuoi beh usa quello del ragazzi arriva il pallone eh io sono al calcio d'inizio quindi purtroppo non posso fare altro cioè purtroppo devo ah sei già al calcio d'inizio porca paletta io sto zitto puoi di qualcosa tanto io non so ma siamo così indietro se volete faccio io la telecronaca se volete eh ma non puoi farla in teoria è perché in realtà la telecronaca potrebbe arrivare a diffida come è arrivata a me però la puoi fare ah ok vabbè allora evitiamo mi è arrivata eh ma per forza perché in teoria hanno inizia in realtà no si può fare ragazzi siamo a 14 spettatori qua ma stiamo scherzando scusate ragazzi voi che sapete ma gli alberi sono arabi o sono prestati da è iniziata adesso da te Greg è iniziata adesso da me e ora ti dico quando inizia da noi perché sono lì dal calcio saranno 30 secondi di discrepanza Gian vedo l'arbitro scusate è normale che io la vedo se non mi sono registrato eh no dopo un po' ti dice che aspetta beh comunque complimenti al servizio di la sette per il servizio di qualità complimenti bravi complimenti a Cairo complimenti a Cairo un applauso a Cairo ecco sono partiti sono partiti un applauso a Cairo eh eh siamo a 46 un minuto di ritardo praticamente quasi no a me non è ancora partito sono ancora degli spogliatori esatto anche a me non è ancora partito ma allora da me è partita sono al quattro 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 quindicesimo ora è partita da me è partita all'ancore intanto da me è partita la la attenzione mamma mia tiro di Malcolm allora è la fuori gioco cioè è fuori gioco io stanno ancora a riscaldare si stanno cambiando da me ancora è riflesso esatto e a Blasi ci stanno la stessa casa eh sì io e lei oh che casa è fatto ricarica la pagina questa è prova di caricarla ora mi parto la mia propriazione di bene ma comunque ragazzi c'è anche su youtube eh c'è anche su youtube la diretta con un sito vabbè non proprio come c'è che su youtube no ci dissociamo ci dissociamo non sto scherzando vabbè no però l'hanno tolta no ma dobbiamo per forza su youtube è stato meglio finché durato no su youtube eh sì sì ma l'hanno tolto l'hanno finito un secondo ah ok ok allora niente no no oh intanto attenzione aspetta io c'ho pubblicità oh mio dio la capolista è davanti ma aiuto oddio io sono il primo minuto ma non c'è parte la pubblicità aiuto ragazzi l'inale ha fatto la grande l'annalto c'è Mitrovic ragazzi che è indemoniato dico solo questo dico solo che Mitrovic è indemoniato è giusto io non so dove lo vedi da me stanno salendo sul pullman adesso guardate che bella bandana color empoli sì ma soprattutto quella Luca i tuoi stanno salendo sul pullman perché finiscono ci sto facendo no no perché deve ancora iniziare sono ancora l'Al Nasr sono ancora a casa stanno partendo ragazzi sono meravigliose sono meravigliose ragazzi ma invece ma chi se ne fotte ma vaffanculo il tatticismo italiano ma io voglio vedere la Saudi League da una parte dall'altra oh madonna aiuto io sono ancora che brividi buonasera Mitrovic impazzito ragazzi ma quando entri l'anno scorso tu buonasera a tutti sicuramente messi nel secondo tempo non hai 90 minuti sulle gambe attenzione l'Al-I-Lal attenzione l'Al-I-Lal ragazzi ma è una partita della madonna voi li avete scherzato addio ecco si sta svegliando l'Al-Nasr ma io sono tipo a 2 minuti e 37 voi io sono a 2.35 2 minuti e 5 ma è 30 c'è il Greg ha finito la partita io sono a 2.05 a me mi ha detto guardate che è una partita bellissima è solo che sono degli scarpari cioè perché ok dai siamo dal profondo del cuore comunque l'Al-Nasr gliene fa due stasera ve lo dico scusate a parte gli schiazzi c'è molto pressing alto attenzione 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 no ma chi è questo Davosari è uno stronzo ha sbagliato davanti al portiere un rigore in movimento l'hai visto però era fallo questo eh sì quello di iniziazione poteva essere fallo sì forse sì ma è mangiato un gol la porta vuota però era fallo iniziazione ragazzi cioè se cominciamo così ho già capito che la VAR qua sta con la Lili lei minaccia poteri forti a favore della Lili assolutamente ma ho già capito com'è la io me ne vado ciao perché ho già capito com'è la situazione qua dai è una bellissima partita ma ce l'hanno con Ronaldo dai sì vabbè mamma mia quindi c'è anche Rona e Kuban praticamente c'è anche quindi un Luciano Moggi dell'Alnas cioè Luciano Moggi ovviamente ovviamente ci dissociamo perché stiamo ovviamente scherzando con gli articamenti prima che qua ci arriva ciao Lucianone quando vuoi sì adesso ho passegggini tattici scusa scusa ora seriamente Gianluca vedi che è un Alilal che sta pressando alto però ma ci stanno picchiando per forza ti piace vincere Fala ci stanno picchiando ci stanno ci manca Al Pulisic e abbiamo fatto tutto qua eh vabbè ma diciamo che l'Alnas è una squadra che gioca più di individualità a differenza dell'Alilal sì ma io ancora non ricordo non ricordo un tiro in porta dell'Alnas cioè è una bella partita ma voi siete scherzate questa partita è iniziata veramente bene effettivamente oh non molano un colpo eh Greg contento? ce la portiamo a casa oh Dio sì ce la portiamo a casa che è il Nas cheat cheat no no è una sfida al vertice ragazzi la vinciamo noi ma che cosa sto dire? la vinciamo noi se vincente è arrivata andiamo a meno uno se vinciamo andiamo a meno uno appunto meno uno non è minchia siamo a meno quattro ma la vinciamo facile oggi la portiamo a casa sì adesso non esageriamo ci piacerebbe corro del stadio Alilal il mio cuore è con te minchia che bella lezione si fa vedere anche dall'altra parte ancora il donato Bois davanti intanto non riesco a entrare la guardia un ciro ok abbiamo un altro tifoso alilal forever mamma mia non capite che sono 16 persone ci sono state 16 persone a guardare ragazzi sono sono degli scarpari ma fanno sono degli scarpari è una roba allucinante azzurri per azzurri sembra di vedere l'Empoli guarda che guarda che due o tre occasioni secondo me il buon destro l'avrebbe buttate dentro e si chiamava Matthew Wright a quest'ora Matthew Wright a quest'ora altro che Geno Empoli si faceva tanto come sta girando cosa stanno facendo attenzione 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 no ancora tu che cazzo fai non devi giocare a calcio devi giocare a gol hai visto hai visto che è uno scarpano è uno scarpano raga ma c'è Giassi in campo Vlasi ci dovevamo stare già 2 a 0 per noi Al Jazeera da Suarli da Vasari da Vasari si cazza Vlasi si stai cazzato e neanche fosse la Roma tredicote è fantastico ma che tempo siete così per curiosità 8 e 13 ma fai 8 e 13 1 che stia collegato 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 CR stera 745 ora ce l'ho io 7-44 io 7-4 7-42 io 7-54 adesso la prossima volta abbiamo guardato il stesso schermo mamma mia che cosa ha visto in madonna bella cosa però se ne metti sei d'accordo chi è che fa un po' di telecom siamo minutaggi io porto il content ma in teoria non dovresti fare non bisognerebbe fare la telecoronale come fai a fare la telecoronale è un'emozione che devi viverla aspetta angolo per l'alilal attenzione anche io sono all'angolo dai neves mamma mia questo è il gol sul calcio d'angolo no 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 ragazzi le idee di gioco ci sono l'idea di gioco ci sono manca solamente tutto il resto ogni volta l'alnas viene buccato come se niente fosse quello è il problema ma perché aspettano gli avversari cioè tu non capisci come è la tattica dell'alnas è un po' l'allegri arabo lui corto muso l'hanno mai visto i cavalli esatto loro aspettano giusto ragazzi loro aspettano aspetta il musetto del cammello il musetto del cammello vinci guarda per favore guarda cosa ha combinato il buon talisca aspetta eh adesso ora arriva aspetta porca troia porca troia cosa sbagliato cazzo calma eh che arriviamo a noi adesso sta per arrivare a fare l'azione talisca al biondo mamma mia ecco qui talisca che parte che cazzo fa e vedi adesso è arrivato l'azione io sono al lancio io al lancio di talisca per manè per manè adesso salta altavarabili ecco qui adesso siamo arrivati a talisca mamma mia mamma mia meno male meno male che questo è scemo meno male che questo è scemo ragazzi stiamo scaldando i motori siete rovinati mamma mia talisca io sono arrivato ora ma anche io adoro ma ha visto che cosa ha fatto talisca io te ho ancora veduto talisca è biondo guardate che in un campionato del genere e loco talisca in un campionato del genere il tuo ecuban fa 20 gol ma tranquilla stoppare e rovesciata stoppare e rovesciata oddio no rovesciata no avevo paura no 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 rovesciata no doveva magari rompere comunque signori mamma mia che liscio non mi devo rompere per accedere Mitrovic Mitrovic per Neves e devi registrarti Rich no che palla Neves quando entra Lione Andres Messi sì vabbè poi chi deve entrare qua mamma mia però lo sai saltare un po' mezzo l'uomo un po' ora lo esageriamo ma ragazzi ieri ci siamo goduti tatarusano cioè forse non avrete capito sei palloni proprio dove? in Arabia in Arabia? ok era una squadra infame indegna in Arabia non c'era anche Gabbiadini no lui è andato secondo me in Qatar nella Nasdaq quello scarso perché non hanno preso anche Matt in quella Nasdaq di Wish è andato in realtà gli Emirati no Emirati Arabi sì Emirati Arabi uniti e perché non hanno preso anche Matthew Wright insieme? aspettate che rispondo anzi c'è le manè manè che salta l'uomo però mamma mia Curibali lo ferma compagni nazionali giustamente no non è mamma mia Sadio io guardo il telefono perché sennò è troppo indietro butto la lagga mi sembra quanto sei Danio? io adesso sono 12 io pure 12 e 13 anche io 12 e 50 ecco ora sul telefono sono 12 e 48 quindi fate conto che c'è un minuto di differenza tra computer e telefono attenzione intanto il Sium la palla mamma mia che azioni straordinarie Sium eccolo qua Greg mamma mia calcio meraviglioso ragazzi mamma porca miseria cos'è il Sium va per Manè 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 però questo questo è calcio di rigore bastardo devi dare inizia una polemica ho pagato 5 miliardi anche se le diverse sono queste ma questi fanno schifo al cazzo indipendente da quelli della NASA fanno schifo al cazzo non c'hanno nessuno guardate attentamente adesso quello che succede porca mia mamma mia è ripartenza è una rigore netta io sono a 13 adesso anch'io io 35 ma che cosa è successo qui ma è una roba allucinante ma scusate anche il telecronista è un po' arabo cioè perché non puoi fare quella roba lì in area con tre uomini che mamma mia ma qua si picchiano sangue ok comunque io mamma mia che numero mamma mia ma che cazzo è successo oddio ma che merda oddio ma che merda attenzione attenzione allà 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 se avete visto il pasticcio che ha fatto la difesa della NASA cioè proprio sì ma è un casino ma che portiere è ma che portiere è non riesco non riesco a capire le emozioni che sto provando a guardare questa partita dico la verità posso dire che il portiere è per la tria non mi posso la descrivere non mi c'è caso di me non mi dice no attila la parata ma è maria ma il portiere della NASA è più forte di un patricio lol camoroso calcio d'angolo cos'è qua beh oddio qui però comunque un po' manese per essere onesto va un po' assicurato qui poteva starci il gioco maschio qui però c'è da dire anche questo ci provano sempre gli onoranistici crede non fare bodicemi chiedo scusa mi dito no attenzione attenzione quale è la NASA no siamo persi no dice contro pietissimo contro pietissimo e al bar ci sono Josep Pignero e Gesù e Gesù e Gesù è in rara a Guamadricchi sarà il Pignero mamma mia che gioco di gamma con la Benfica no che ha Giorgio Gesù e Bilingo mamma mia che si è fatto un baffo primi è stato un baffo mi sono dovuto a sentare è successo qualcosa no è successo il finito è iniziata la partita hai iniziata perché io sono ancora sono a 15.40 voi siamo lì felice 25 ma sei un cretinito no ma dai io ho 16.25 comunque sono stravanti io ho 15.50 16.20 io ho 16.01 è quel telefono stravanti ma vieni dal futuro è rossondente aspetta giocatemi quello che vi dico lo buttiamo fuori per favore lo buttiamo fatto un po' casino io ho il 16.20 a Ramingo mi sa che sono più avanti io di voi perché io sono al 16.52 oddio no è che mi è saltato io e Carlo uguali ho fatto in tempo a dirlo che mi è saltato in sostanza sono io quello più avanti di tutti quanto sei? ragazzi quando vediamo Greg andare via la partita è finita Greg ma a me c'è qualche libro buono ce li stiamo perfetto è finita ciao primo tempo da lui al primo tempo io vedo l'arbitro che sta facendo adesso la distinta cazzo d'angolo all'irale io sto c'è un 66 che sta tirando una rimessa io sto vedendo invece Cristiano Ronaldo che viene presentato per la prima volta a proposito ha fatto qualcosa Ronaldo non ha toccato un numero che poi ma lì quello del possibile calcio di rigore che non c'era però vabbè ah ma quando non c'era c'è stato un possibile calcio di rigore sì sì no è la rigore e ve l'ho detto che ce la rubano si è tuffato si è tuffato ma ne clamoroso come si è tuffato sembra che con la Juve c'è Luca c'è sto da una gomitata di Fofanà nei confronti di Milico Vistavici che era da Rosco dovevo ma smettila ma smetti la cosa signor Albano lei di che squadra ti fa qua di che squadra ti fa adesso è Ramengo non è più Albano la risposta è un po' evidente Al Ramengo Al Ramengo scusate sta con l'Al Nasr sta con noi non vedi lo suo sfondo ma che cazzo sta dicendo che è l'Al oddio giunga poi guarda che se è con un alabo rischiamo di io ho un'unica fede l'unica fede Al Nasr quella è in Dio quella è in Al-A io si può solo a giugno però quindi Al-I-Lal c'è il Respera no Napoli c'è il Respera mi semplice così ma signor Ramengo ma una domanda siccome parlano tanto di Piff lei ne sa qualcosa se vuole acquistare l'Inter qualcuno visto che il presidente è un po' con le pezze non dico dove cioè vi siete proposti per formalizzare un'offerta al signor Zango oppure non so guarda questa Ramengo ce l'hai nel Ramengo guarda un po' ma quello è il mio moderatore di Twitch ma io gli levo la spada io gli levo la spada a quel falso interista una volta ha detto tipo Ava Jun e poi Inter oh Greg di un po' qualcosa si è banchato tutto io sto ancora attendendo un compratore dall'Arabia per l'Inter quindi ho capito ma prima se l'Empoli basta meno scusi l'Empoli in attacco abbiamo perso Ricky Bula Lida attenzione Bula Lida l'emozione gli ha giocato brutti scherzi ragazzi ancora lui no eh vabbè non va io ti vuoi ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo no non buttatelo fuori mamma mia aspetta aspetta c'è un doppione di Muhammad Al-Ricky l'ho tolto l'ho tolto vediamolo così in teoria non possiamo fare non possiamo fare non regge la forza dell'Anastra l'Elal esatto cioè comunque direi che l'arbitro sta lasciando parecchio correre però ha senso unico c'era con gli azzurri ma non è vero ma lei dice boiate ma si vergogni guarda 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 che fallo per l'Anastra ma guarda qui adesso che gli hanno fatto fare mi ha mandato la pubblicità ma non c'è da me guarda Ramengo ci danno già contro l'ho già vista questa partita guarda io l'ho già visto ma che cosa ti danno contro comunque lei c'era un rigore c'era un rigore mi sembra già di vedere questo Genoa Empoli che sarà favorito se vinciamo con un rigore che non c'è se vinciamo con un rigore che non c'è guarda non posso parlare sì però ok ma stando caldo in casa chi è primo sì ma chi è primo io c'ho pubblicità io c'ho pubblicità ma c'ho come bobbi piccoli quando si quelle poche volte quelle poche volte quel gol ha campionato sai che ha fatto peggio di lui Raspadori non è vero ma piccoli ha fatto un gol della madonna quella volta col Milan quella volta ha fatto al Raspadori è successo qualcosa non posso dire niente ragazzi però è coinvolto il nostro Ronny e niente allora qua voglio vedermi il gol su rovesciata tipo figurine panini avete presente solo qui le vuole fare ormai questo è un campionato dove il kickoff glitch è reale non è solo su FIFA quindi comunque ragazzi sono volati 20 minuti volati minchie quando ci si diverte mi aspettavo di annoiarmi che c'è Al Pulisic Al Pulisic Al Pulisic ma secondo me bisognerebbe dire Al Legri minchie che rida guardate lo so però dobbiamo creare un po' di potenimento cosa possiamo fare qua cioè in questa partita non succede niente se non errori date si manca cosa sbagliato CR spera ma ragazzi ma quali errori allora siamo seri ma quali errori questa è tecnico tattica pura ma qui c'è R7 vedi qua Mitrovic la metteva tutti qua qui anche Ciccio Caputo la metteva dai secondo me la cucina la notte liga la metteva bravo la stella ragazzi ha fatto più schifo di questa partita allora Gianluca hai rotto il cazzo sono due volte che fanno le comitate a quelli della Lillale ma guarda che fallo ho capito ma sono due volte che fanno le comitate ma sta a piacere ma devono amonire ma si vergogni ma lei sta lei sta dicendo che gioca con l'Empoli lei sta dicendo signor Pagano lei sta dicendo non velatamente neanche signora Pagano lei sta chiaramente affermando che qui la Lillale ha i poteri forti a favore e io non l'accetto questa cosa sinceramente non l'accetto io qui siamo in un qui mi metto questo grosso serio no dici che donna di casa questa è una vergogna è una vergogna perché qui siamo in un programma serio e pulito è lei che vengono qua praticamente a dire queste cazzate si deve vergognare io spero solo in un punto io spero almeno nel pareggio è un algoblotto qua algoblotto algoblotto ci stanno sul cazzo in che vincolo non è un problema tuo Gianluca li aspettiamo in casa al ritorno si si vabbè ce lo giucci guarda che fallo ci distrociamo no vabbè in modo più è una bella festa dei fogli signor Pagano si ricordi che siamo in fascia ancora protesta ho detto che fallo ti devi ricordare che ma ne è un fenomeno devi ricordare che i proprietari dell'Ali Lale e la Nas sono la stessa persona io ti dico questo cioè il principe Bill Salman è come il PSG e il City la stessa ma solo in questo qua però meno male che ha aperto ha fatto un'apertura però adesso guardate il complotto un cazzo guardate che ha fatto andare avanti due azioni dove una delle due squadre aveva sempre un tipo per terra e parla di complotto il presentatore ma lo cacci ma sto portiere della Nas ma sto portiere che vogliamo parlare perché siamo delle fighette qua in Italia si vergogni mi dissocio si vergogni si vergogni mi dissocio no devi farlo entrare con la sua musica abbiamo carta ragazzi c'è la sua musica se permette questa musica ma la male volete donare qui a rendere tifosi fatelo pure mi raccomando yes donate yes 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 è vero che abbiamo i miliardi perché da buoni arabi quali siamo però se ci date qualche soldino non ci fanno schifo mi stanno molestando in chat guarda qua gli ha dato una malata in capoccia al hai visto hai visto Ramengo ce l'hai in quel post ce l'hai nel Ramengo basta ti sei in computa con lui questo lo faccio finire uomo di malafede sei in computa con lui voglio dire una cosa seria ragazzi dopo la partita di stasera non guardo più partita nel weekend per me ho finito in serie A Mitrovic è uno che sarebbe uno dei migliori attaccanti del nostro campionato io lo dico tranquillamente Mitrovic è un bel giocatore anche un Otavio come trequartista non sarebbe male adesso a parte le stronzate però Greg ora quei quattro secondi di serietà sentimi Greg con quei quattro secondi di serietà Mitrovic sta facendo il fenomeno contro nessuno eh cosa ci abbiamo in serie A noi sì hai ragione anche te questo è l'altro discorso vabbè ma non soffermiamoci su questi dettagli qui siamo alla South League siamo al migliore campionato del mondo nulla hai paragonato qui è la magia dovete farvi trascinare dalla magia che c'è qua mamma mia Mitrovic che cazzo ti ha mangiato niente niente via via eh stiamo un po' soffrendo eh ragazzi Damingo stiamo un po' soffrendo eh un po' un po' questa partita quando inizia a ingranare Sergio Nataliska è il biondo inizierà a girare ma te non eri della lilal scusami è fluido è fluido guarda lo sfondo cr spera signori cr spera ancora tu devi andare a fare il kebab tu devi andare a fare il kebab che non sei bollo ma ci distorciamo da questi da questi da questi luoghi comuni razzissi del signor Vlad è uno che ti fa Lazzie e niente ultima frase famosa quello ti fa Genova sabato quello ti fa Genova sabato eccolo 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 ragazzi talisca ha fatto un tuffo adesso meraviglioso che se vi basta guardatelo perché è meraviglioso notatore mamma mia che fai oh mio dio non poteva giocare che altro ragazzi prendiamo le distanze non ci prendono più come si è tuffato come il tuffo lì ha carpiato però se non all'Alnace poteva giocare fallonetto fallonetto ragazzi tutta l'isca era fallonetto siete disonesti però non dire che era fallonetto ma cosa cavolo ti fa guarda tu sei il classico tifoso dell'Alnace guarda guarda netto ragazzi ma Talisca Talisca ha confuso il campo da calcio con una piscina dai è grande è come un areno uguale manderò uno dei miei cinquanta maggior nomi veramente guardate attenzione ragazzi rista signori c'è una rista in corso attenzione c'è una rista che è bella azzurro è te è te cullibari si è incazzato di brutto guardate cosa ho messo guardate guardate e ti dice anche questo sono io sabato pomeriggio alle 17 scusa scusa dopo che ce l'hanno ladrata vada cullibari incazzato no no io mi distorcio non volevo dirla io è arrivata dopo questa è arrivata dopo calmo io non la volevo dire perché avevo paura sono talmente più scarsi sono talmente più scarsi che la stanno mettendo in rissa non è giusto vabbè devono dare anche loro un po' di al pensiero che Cullibari potesse venire all'Inter anche se perdiamo chi è primo in classifica silenzio qua questo è calmo arriviamo finisce stasera la Juve che campionato è la Juventus che squadra è non conosco nessuno no ma la Juventus è una squadraccia è un campionato mediocre qua stiamo guardando il campionato ma nel campionato interno ci sono ladri prescritti truffatori laziali tutto di più laziali e noi laziali non me li devi toccare taglisca sulla barriera ragazzi ma permettiamo ragazzi ma noi permettiamo all'Inter che ha miliardi di debiti di fare un campionato ma siamo dei pagliacci noi ma lo vogliamo dire onestamente anche l'FC Barcellona esatto ma noi permettiamo alla Juventus che trucca dei bilanci di fare ancora la Serie A al Milan che cambia la proprietà in maniera fittizia di fare il campionato c'è noi le nostre tre grandi non c'è ne una che sia sana lo vogliamo dire che campionato di merda il nostro cos'era quel mezzo coccodrillo dietro il mezzo coccodrillo no era un mezzo coccodrillo c'era la partita pubblicità comunque ragazzi questo è un contributo audio se partisse possiamo farlo ascoltare questo oppure ci inculano probabilmente non lo capisce nessuno non si preoccupi è un po' 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 ma a proposito aspetta aspetta ma io mi sono dimenticato di una cosa importante ragazzi aspetta cosa? è questo ma lo cacci ma lo cacci Vlasic lo cacci per favore lo cacci caccialo oh che cavolo questo si sta bene torna quando perde sabato pomeriggio e se perde ah no perde stasera è bravo oh Lukaku in questo campionato ci avrebbe regalato magia io lo dico con tutta serenità aspetta che sta arrivando Ronaldo ragazzi dategli fiducia secondo te il tempo doppietta aspetta che sta arrivando a gennaio ma secondo me pure io fare favilla in questo campionato io non lo dico ma chiunque no io almeno cinque gol li faccio ma anche ma anche il bomber pitch ragazzi ma di che stiamo parlando anche il famosissimo head to the right comunque off topic fa caldissimo qua sotto la testa che va non dominare col netto adesso breve accenderò la stufa così facciamo 40 gradi come nel deserto qua io voglio fare un'affermazione in tutto questo io denuncio la fucina come ladra di questa got league ci sono tutte le prove nonostante questo riescono comunque a non vincere questa competizione riguardatevi la semifinale della scorsa got league vergognatevi due gol irregolari hanno il coraggio di lamentarsi mi indegni facciamoci la nostra squadra dentro la got e ce ne andiamo tutti con esatto ce leiamo tutti signor carta l'ascolti ascolti questa nostra richiesta facciamo la della got tutti con il turbante esatto ecco ecco nella maglietta ci scriviamo i nomi che sono questa allora la nostra prossima league potremmo chiamarla al got league ragazzi io ho un'idea noi possiamo partecipare come squadra ok alla got league però il nome dobbiamo cercare il nome il nome sarà tipo al qualcosa ragazzi scusate un contributo audio per voi al gol ring ma non c'entra niente il kebab carta presidente direttore sportivo nel caso il direttore sportivo che l'abbiamo Alessandro Cauci è vero perfetto oddio no ragazzi mi è saltato il collegamento io non sto vedendo niente Gianluca questi sono i vederi forti che non te la fanno vedere vogliono impedire di vedere ecco Gianluca ti evitano uno sconfitto la pubblicità guarda guarda tra l'altro quella maschera non è credibile lei signor Ramengo perché la serie raccontava un'altra cosa tutt'altro io volevo parlare di calcio il football stiamo andando io l'avevo detto che portavo il crash perché c'è tanto al Roma lì al Pulisic o come cazzo si chiama anche lei Lasic stiamo arrivando alla giostra figliuolo questa è la giostra a che pubblicità bellissima oddio si è fatto male qualcuno si aiuto zumba no 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 ma io voglio la mano come aiuto no è tenis mi mette a piangere il mio cuoricino piange guarda come si fa chi si è fatto male ragazzi Tejas ovviamente ovviamente Tejas diciamo che non è che stesse dando un grande contributo alla partita ecco possiamo dire dai fuori stai interrompendo lo spettacolo brava quando si è fatto male straordinario il muro giallo incredibile il siume che lo aiuta c'ho pubblicità ragazzi c'ho pubblicità argentina bellissimo da 50 milioni di metri Heiman è il mio vicino di casa si effettivamente probabile Greg probabile probabilissimo ma dove ma dove dimmi ma dove non lo conosco manco è vero ah del nano del nano è vero è vero è sosa del nano boomer guarda un po' che è Ronaldo è andato cioè capito è andato dal compagno a dire dai va bene così ce la facciamo uguale ma casualmente perché sono portoghesi ma è una casualità casualità certamente però tu metti in dubbio il nostro bomber non va bene così lei pensa alla nostra ci pensiamo noi io e Ramengo per favore aspetta quindi siamo io Greg e Vlasic basta no io vado dove mi portano il vento anzi con chi sta Almonhead però non lo so adesso con chi sta Almonhead nel dubbio io mi distorcio da quello che ho detto è chiaramente Guliardia non lo so non lo so non lo so non lo so no abbiamo Mohamed Esposito con noi ragazzi siamo in tre noi quindi il signor Mohamed Esposito lei è un amante napoletano molto attivo sessualmente ha detto come ha detto il nostro compianto cavaliere che ci manca sempre ogni giorno della nostra vita grazie Silvio cosa c'è scritto sotto in arabe aspetta come si diciamo no grande Nico aspetta devo aggiungerne aspetta perché mi manca qualcuno secondo me e allora manca Riccardo manca Kartal vince l'ho messo allora aspetta tanta tensione l'Ilan è in possesso del pallone no vabbè stranamente come dici stranamente non è possibile concordo Nico Fiore è che scritto vabbè non lo so sempre sempre e comunque dai da lì a correre dai cross aspetta calcio d'angolo per l'arilano dai mamma mia ragazzi ma questi giocano eh Ricchi giocano come non è calcio d'angolo intanto vi torno dopo vi devo mangiare intanto attenzione Gianlu Sperosabio normale i meme per favore e Cristiano Ronaldo attenzione ragazzi ha fatto un gesto provocatorio nei confronti di uno attenzione CR7 si sta incazzando Ottavio ha più tatuaggi che lacci nelle scarpe dai vabbè Ottavio è arrivato il ruento ma quello si è buttato dai ci ha fatto una sceneggiata io con calma arrivo ma scusami ma tu vuoi mettere in discussione un grandissimo arbitro Wilmar Alexandre Roldan Perez al Malerba c'è altro che Pierluigi Collina cioè Roldan Perez è il futuro degli altri sempre meglio di quello che c'è la domenica in Baccellona atletico ah beh quello sicuro ragazzi sono indietro come le male dei cani qualsiasi arbitro non ho capito mamma mia Ronaldo io sto guardando ragazzi una partita dove non è ancora arrivato Ronaldo al Nasr pensa un po' bellissimo l'allenatore dell'Al Nasr attenzione attenzione no sono dei coglioni però questi sono scarsi questi sono scarsi proprio complimenti adesso vediamo quanto sono scarsi i nostri aspetta che di pubblico siamo una bagna di pippe ma voi secondo voi scusate allora voi pensate a Malcom al bag però lo dovrebbe dire in arabo perché non si è capito bene questa non è la barba sia chiaro non è un ma Malcom c'è il catarro mi sa yalla però il calcio d'angolo non è stata deviata ecco perché allora voi pensate Malcom ma Talisca è caduto da solo ma tu stai ancora Talisca caduto dietro io c'ho l'essere lunga più la conosci più ti innamori ma Malcom che cazzo fa doveva tirare da lì ma sei un si vede che si vede che Malcom vabbè ma il grande Malcom non può fare questo lui ha una visione di gioco che sono 40 milioni le più ci basi e la visione di gioco gli andassero a fare in culo ecco dove deve andare ma se poi sto parte come si chiama gli allenatori certo è sconosciuti ieri abbiamo visto le formazioni c'erano allenatori sconosciuti sono i fratelli no non specificato non specificato non specificato allora per l'anal sui fratelli non specificato Pignelo de Jesus mentre per la Nasr Luis Castro ah quello che che te Castro è quello lì dai ma no è l'allenatore che era lì in Pugli l'anno scorso quello bravo dopo questa battuta lo dovevo cacciare non lo vado non è che non c'è Blessing no vabbè eh vabbè morri ma ci potrebbe star lì eh col suo 4222 eh guarda che quello ma chi ma chi è Arrigo Sacchi il 4222 è mezzo voi siete stati veramente su veramente veramente degli ingrati verso Blessing che aveva delle idee meravigliose non siete riusciti ad aspettarli ti vediamo più tardi ciao Giulia ciao 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 al Pugli salam alecum Giulia salam alecum esatto abbiamo perso Ricky nel mentre ora siamo rimasti 3 contro 3 eh 3 contro 3 eh eh sì eh ora siamo pari eh ma Luca mettimi sopra mettimi sopra hai ragione aspetta aspetta hai ragione no dobbiamo fare noi stiamo sopra noi stiamo sopra vabbè sono in casa dai glielo concediamo Mitrovic dai come classifica noi a voi e quindi è che guarda neanche tirai un destro comunque è bellissima la corsa di Mitrovic ha una capacità di corsa guarda come si è buttato guarda come si è buttato questo ecca la che sta a piangere mamma mia oh però d'applausi però adesso no 4 secondi di serietà applausi a Mané perché si è fatto 40 metri di corsa indietro è vero eh vabbè ma tu ti sei messo al Manerba cioè il guanto mamma mia dal guanto di Matrix come lei ben sa come lei ben sa come lei ben sa le apparenze possono ingannare anche i trovami 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 te trovami te uno trovami te uno che si fa fotografare con i suoi amici con un carrello pieno di pizze regina e corone cioè per cui io sono per questo non sta toccando boccia questo eh io ho avuto i calciatori che avete c'era una foto con la panda sulla neve quindi io lo amo Brozovic veramente ma solo per quello che era questo ho avuto giocatori nel Real Madrid una squadra modesta in confronto alla Nasr e alla Lilal che era in squadra uno che mangiava la nutella e diciamo è rimasto fuori per questo e al Padre non giocherebbe neanche in Champions League 2 esatto infatti quando io ieri vi ho detto o anche prima stai a vedere che sta qua è una tortona da 0 a 0 e ce lo miniamo state a vedere cosa vi dico non ne vediamo 9 gol come quella di ieri ma è bello è che tu ma sai qual è il punto Gianna ma sapete qual è il bello ragazzi dice 0 a 0 partita bloccata squadre tatticamente messe bene no è un'azione dalla parte e dall'altra sono proprio scarsi loro c'è una roba allucinante diciamolo diciamolo è incredibile come Orkis e Sus la facciale bellissima che sembra la battuta di Messi è mia oh non si ruba le battute ma a voi a che minuto si ruba l'ho comprata non l'ho rubata 44 e 34 44 e 41 ma con quali soldi l'hai comprata sempre di PIF ho venduto un'altra voglia e ne trovaste troppo no ma io mi distorcio ma mi distorcio per favore è un cavallo è un cammello scusami ovviamente comunque secondo tempo usciamo noi sicuro e poi saldibbliare anche i cammelli no come diceva mister Garaciarua no Allegri dice è questo però attenzione 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 aspetta aspetta vediamo i poteri forti io ne dubbio minchia ma hai detto ragazzi hai detto i poteri forti per chi Ricone per la Nasr che schifo vediamo eh vediamo vedrai Calvar che lo accolgono no hai detto ragazzi ragazzi io non l'ho ancora visto non è nemmeno ma l'ho visto io a segnalare questa cosa ma dai ma non la tratta dai ma valese ma io lo danno un attimo stavo guardando il bar adesso ma lì ma è netto ragazzi ma la massacra però aspetta bisogna vedere il fuorigioco è il fuorigioco però del giocatore ma che cosa è netto ma che sei bustato ma porca troia no l'agricola ha toccato non c'è niente ma non l'ha toccato no 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 presto facciamo informazione prima di Ottavio però eh Ottavio c'è il problema è che alza la bandierina il rigore il rigore non l'ha andato semplicemente perché Ottavio era in fuorigioco quindi è fuorigioco cosa fai così è fuorigioco alza la bandierina su ma venti è una decisione giusta ci usiamo il VAR per motivi giusti dicono e gridano scandalo sti fenomeni eh si vede Cristiano troppo come la Juve voi siete come la Juve basta basta questi questi qui sono ora commentiamo non riesce nemmeno a giocare con le pocole non rubano una sola parola vergogna ma vergogna accorgia che c'è il fuorigioco di Ottavio ma si vergogni lei di dire certe ma lei sta facendo demagogia ma la smetta nemmeno con la Juve si ladra così ma forza lei veramente sta dicendo il campionato milione del mondo è ma lei sta facendo demagogia signor Pagan io ve l'avevo detto che è già senso unico sta partita io l'avevo detto lo sapete ma capisci che è senso unico se c'è il fuorigioco semiautomatico fuorigioco dove? allora Gianluca al Pagan sei come il Genoa stai sempre a piangere stai sempre a piangere o ogni cosa piangere qua ce la giocano contro c'è da fare si vabbè sembrano di giocare nemmeno con la Juve la Juve si vergogna ladrarle così la Juve si vergogna almeno la Juve lo fa con classe cioè non come voi che dite che cazzo è questa roba qua ma non le fanno la mia parte ha fatto che c'è both sides prima ma non fate come i giornalisti che attaccano l'Inter a prescindere per episodi che non esistono come fanno da altre parti su Twitch ma questa non è la serie A questa è la so di lì calma l'erba cazzo ma scusami c'è un fuorigioco semiautomatico grande come una casa su Ottavio non bisogna dare il rigore si vergogni fuorigioco ragazzi è molto semplice la questione è che ci vuole tanto spiegarlo fuorigioco fuorigioco guardalo è fuorigioco tutto il corpo questo è una ladrota tutto il corpo è vero ma vi dovete vergognare io basta no 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 Greg non ci lasci soli non ci lasci soli neanche col fuorigioco un uomo ma che buffone voglio ritornare a fare un cv siete delle merde ma che buffone ma si vergogni lei è Vlasic stiamo vergognando lei è Vlasic guarda questo pirla guarda questo pirla stiamo domandando la faccia di un pirla la faccia di un pirla stiamo delle la prossima puntata di ormai è un assedio a Forta Pasqua eh gli ultimi 5 minuti non c'è stata partita non c'era minimamente minima ma Corvo c'era tutto il fottuto Corvo vi abbiamo messo le palle in gopa per tutto il primo tempo avete il coraggio di dire che abbiamo rubato vi stiamo costringendo a togliere gli occhiali aveva aveva un tacchetto che teneva in gioco il nostro niente da dire ma che cazzo stai dicendo ma stiamo dicendo che era fuori gioco era un filo di scarpa eh se fuori gioco fuori gioco siete dei buffoni dei buffoni adesso no diciamo le statistiche come stanno 65% 35% al Nasr statistiche non sono niente sono solo numeri il gol tiri 9 tiri 9 per la Lilal per la Lilal Rihad e 7 tiri per la Nasr 1 ciascuno in porta 3 calci d'angolo 1 per la Lilal 3 punizioni a 6 per la Nasr ok 14 rimesse laterali a 6 ma di che stiamo parlando e volete parlare di ladrata ma veramente fate e perché i nostri sono storti altrimenti staremo già 2 a 0 minimo Milinkovic Savic ha messo le palle in testa Talisca e non lo volete ammettere signor Gregorio non mi tocchi Talisca il biondo eh non mi tocchi Sergiore Talisca ma sei una pippa ma sei una pippa Talisca che sei mangiato 2-3 gol dai che sei bussato più di lavoro vi dovete riprendere siete ossessionati dovevamo vincere almeno 2 a 0 sto primo tempo e ci dite che stiamo rubando vergogna 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 prescritti proprio Aladin lei è una persona Aladin no però aspetta non si può vedere lì la grafica di Sofascore per vedere un po' come è stato al momento della partita guardate le statistiche dite che non ha cioè come fate a dire che abbiamo rubato ma di che cacchio stiamo parlando veramente diventa una bestia è una vergogna che sia ancora 0-0 ma voi ce l'avete Cristiano Ronaldo di squadra? no sciacquatevi la bocca se non avete Cristiano Ronaldo di squadra sciacquatevi la bocca tuoi cambi a cazzo l'emergenza in vortuni cambio sceni mentalità di merda siamo comunque lì a tenere testa a questo squadrone vergognatevi se c'era Neymar se c'era Neymar se c'era Neymar esatto sicuramente lui l'avrebbe risolta con un balletto una cosa però l'avrebbe risolta siamo sicuri di questo beh avrebbe dato spettacolo ancora di più con i sui tuffi vabbè quello sì però vabbè diciamo che un po' io non trattengo la tensione devo scaricare la tensione torno subito dove vai Daniel in bagno? ovviamente vabbè se vogliamo fare vogliamo seguirlo no no se lui va in bagno per fare quello che deve fare vabbè comunque qualcuno vuole inquadrare le statistiche del primo tempo non so sì aspetta c'è nel senso scusate mettiti su sovascore se ci sono che tanto no sovascore no c'ho diretta c'ho diretta io aspetta se no ti condivido io adesso sovascore aspetta che ok allora se lo condividi tu va bene va bene aspetta mi metto gli occhiali che vedo meglio te prego te prego guardate gli un'occhiata a lui perché davvero lui è è poesia ragazzi siamo arrivati a un picco di 16 persone ma vi rendete conto grazie a chi grazie alla Sampadine grazie alla Sampadine grazie ai porteri arabi esatto viva l'Arabia viva l'Arabia i porteri arabi viva l'Arabia e i suoi soldi ci prostiamo ci prostiamo dinanzi ai soldi dell'Arabia io un attimino pure io non riesco a uscire oh raga io non riesco a uscire fuori dalla mia stanza con mia madre che mi guarda così vestito andare in cucina no non c'ho il coraggio posso dire io l'ho appena fatto con mia sorella e mi ha guardato del tipo perché e io gli dico sì perché sì tu mi stai dicendo che questo acquisto che hai fatto l'hai fatto all'insaputo di tua madre no 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 nel senso lei lo sa perfettamente solo che capito mi vergogno io umanamente diciamo che deve lavorare il lutto ah deve lavorare il lutto lo sono sbagliato intanto si rivede l'azione del mitico Sergione Talisca eh era sbagliato io conosco solo un Sergio Sergione Talisca con se mi sa il biondo esatto il biondo vabbè beh comunque qui aveva avuto aveva fatto una gran cosa eh Talisca comunque con questa semigirata eh sì ma ci siamo mangiati due gol clamorosi cioè veramente guarda se diciamo che hai visto il gol che abbiamo sperato davanti a quello oppure questo qua cioè veramente ma noi abbiamo il porterone noi abbiamo un porterone ma all'incurve non vuol dire avere il porterone almeno questo come no come no chi sta in porta chi sta sempre in porta ma alla all'attilla come cazzo si chiama la lattina lì quello sta in porta il nostro è più forte non ha ancora subito un tiro il portiere ma io li provo vedere sì eh vabbè noi c'erano buono lui è il militario degli emirati eh ah riguarda questo se c'era nel mare beh qui diciamo che CR7 vabbè diciamo poteva tirare un pelo più forte però lì era piazzato bene buono eh guarda questo mamma mia che che passaggio letta lisca comunque viva l'arabia saudita unita tutta intera sempre ma questo non c'era nessun dubbio alla io dico all'arabia 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 ma vergognatevi vergognatevi degli emirati vogliono mandare un regalino i soldi basta che non sia una bomba stop al calcio minore ma ti rendete conto ce ne stiamo paragonando la Champions League la Serie A la Liga la Bundesliga la Saudi ma che schifo che schifo al calcio minore stop al calcio minore che schifo mamma mia cioè io non c'è che veramente di noi si guarderebbe adesso Juve Monza io no una partita del genere una partita del genere ti stende ma neanche un union deportivo Las Palmas contro un Getafe se per questo tanto mal mi devo vedere Genoa e Empoli e mi immagino il gran caso poi io non la guardavo a prescindere quella è la nata scorsa esatto proprio così di giustezza piuttosto mi recupero delle serie vecchie ma la Spalmas che taffe anche no no più che altro il signor Gregorio potrebbe mettere che cazzo che cazzo non si ruba a casa dei ladri ma si vergogni ma queste vergogni classica frase di chi è secondo esatto e non accetta siamo terzi ecco non c'è più non c'è più Carlo è scomparso il signore Esposito è scomparso ma aspetta ma come si fa a mettere lo spondo che è a parte di scherzi allora impostazioni però non puoi metterti l'appartamento perché lì ormai è di proprietà del signor Vlasic ecco quello assolutamente no però ve lo farlo anch'io però non ci riuscivo poi vabbè ti trovi anche l'immagine che vuoi e te la metti fondo virtuale ok e poi lo vedi sì sì adesso cerco un attimo l'immagine nel dubbio io ritorno con il mio amico Cristiano mi sentivo solo eh vabbè vorrei fare una photoshopata di Messico la maglia si può fare se la fai sì mi sento accettato mi sento accettato questa è per tutte le accuse di ladramento che lei ha fatto nei miei riguardi si vergogni nei nostri riguardi si vergogni lei lei si vergogni lei aspettate un attimo io perché e ti fa l'inder e compra Naslani e lo lasciano in pacchina ma si compri l'inter lei invece di fare invece di fare tutte queste sceneggiate parole si compri l'inter signor Ramengo io ho bisogno di un proprietario serio non come questo si vergogna anch'io che è tifo Empoli ho bisogno di un proprietario serio prenda i soldi e acquisti l'inter se lei è così bravo d'accordo io voglio un proprietario serio lei è venuto qua millantando di essere a Ramengo con uno sacco di soldi da spendere venga in Italia e acquisti l'inter da Chiarola io mi sono rotto le palle di queste persone che prima parlano e poi non dicono niente perché qui accusare l'Allilal di essere una squadra che ruba è una vergogna è una vergogna sportiva con tutto questo però amico caro comprare occhialo da solo occhialo da solo solo due euro amico dai occhialo da solo mi spiace io avere già io avere già mamma mia mamma mia occhialo da visto quando tu non avrai visto occhialo da visto chi l'ha visto chi l'ha visto meglio meglio no grandissima cuffia questa poter fare anche dosha questa cuffia da dosha cuffia da computa no no cuffia da tutti io non credo che cuffia da dosha un amico provare solo 500 euro tutti comprato tutti provato uno solo comprato un po' troppo 500 euro dai amico aspetta visto che con l'atletico non lo posso fare lo faccio qui a qualche premio io vendere il mio fantastico camello mio fantastico camello a quanto a quanto sempre 500 euro vai due schiavi due schiavi è qualcosa dai mi distorcio mi distorcio allora allora Rabengo se ci metti anche una donna va bene te lo compro se l'avete voi i miei socio 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 si scherza si scherza la Champions League ma anche non troppo voi non ce l'avete mi ha detto lei io voglio comprare la Goat League voglio comprare la Goat League un'offerta ufficiale la vorrei fare e io vorrei dei soci e voi mi sembrate le persone perfette soprattutto il signor Ramengo che con il grano che ha potrebbe contare anni io non le sembro serio si vergogni ma guarda 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 la serietà lui insieme alla Pe Maia che l'ha ingravitata cosa vorrete dalla vita no? senti senti quando è che è nascita il tuo figlio o figlia? eh devi chiederlo alla Pe Maia è lei che diciamo fa queste cose perché io non mi sembro serio sei tu che gli hai dato una zifonata alla Pe Maia eh lo sappiamo ma adesso gliela ridò stasera dopo che è finita questa live poi ti saprò dire aspero ci faccia vedere il buco a quella Pe Maia ora ce lo faccio io purtroppo non è possibile perché è un po' intasato glielo devo disintasare quindi voglio risparmiare ogni quanto allo stasa ogni quanto ma quella è andata a mangiare ogni due tre settimane purtroppo Alpagan ho mangiato un pezzo di cioccolato ci sta ci sta comunque Alpagan ci può mettere le non ce l'avete la Champions Asiatica non ce l'avete fai vedere la Champions Asiatica tu come mai l'avete viste le percentuali Champions League tu non arrivi ci vai guardate un po' che è la canzone dell'Inter guardate un po' fai vedere 64% di possesso al Nasr scusate sì ma non mistificare ma aspetta qua devi la bocca con lo champagne anche le altre statistiche brutto infame che non sei alto la sic entra 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 non è sopra capriano come ecco bello rivediamo e cadistro trapezzo per favore entra e cadistoccino ma per favore ho capito non ho capito non ho capito comunque vorrei denunciare una cosa Sopascore per tutti calcola sempre l'XG gli expected goals per al in là la Nasr non lo fa vergogna ma perché se no vi avremmo umiliati ancora di più e quello è il problema beh comunque no parlando ma facciamo i migliori e i peggiori del primo tempo guarda guarda quanto è sexy guarda quanto è sexy questo uomo basta basta allora beh migliore per la Nasr mi sembra Talisca di gran lunga visto che è stato quello più pericoloso Talisca e il biondo siete invidiosi infatti volevo fare uno per squadra però se lei non fa finire di parlare signora Alpagan di Sergiore e il biondo Talisca non parlare a parte questo io io essere secondo di chi sta essere invidioso di chi sta secondo in classifica mai eh lei è invidioso della Lazio e si vergogni ma questo non lo dire ma infatti la Lazio è dietro la prima squadra di Roma il Fredirore il Trastevere vabbè il Trastevere chi ama il calcio odia 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 al Nasr chi ama il calcio odia la Juve quello sempre il Var il Var vi aiuta rigore netto ineccepibile questo è un delirio però guardate un po' il Dimitri scusate eh abbiamo fatto la storia lei si sciacqui la bocca che fate comunella per sabato che fate comunella per sabato ragazzi abbiamo veramente grazie grazie Cristiano abbiamo già iniziato però direi grazie possiamo dire tra i migliori e peggiori di questo a parte degli scherzi uno per parte io dico Taliska da una parte e Mitrovic dall'altro i peggiori Milinkovic 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 secondo me è stato peggiore Milinkovic ah peggiore sì ok ma anche Mitrovic anche Mitrovic tra i migliori scusami sì no uno per testa Mitrovic secondo me sei mangiato ma ho capito Milinkovic io ho capito peggiore Milinkovic peggiore Milinkovic migliore Mitrovic ok ma ragazzi di là invece Cristiano Ronaso peggiore no io sto per cominciare la partita anch'io io sto vedendo io sto vedendo il biondo posso dire i miei migliori gentilmente grazie sì prego ecco mamma mia perché stava citando gli arbitri per voglia per voglia no dicevo aspetta i miei migliori giusto così al volo Mané e Ruben Neves per insomma per parte anche Mané ha giocato bene effettivamente ma a che minuto sei te Daniel 45 non benissimo però non peggiore io e 30 ho 10 piegoni di ritardo ma come è iniziata io sono al 40 io sono al 40 del primo team la partita dell'anno scorso ovviamente sempre direi che comunque no ragazzi possiamo discutere di tutto ma in questo momento secondo me i peggiori in campo è stata secondo me la coppia centrale barra portiere lì dell'Al Nasr perché soprattutto la prima parte del primo tempo una serie di disastri no ma infatti ma ragazzi ma allora non c'è filtro al centro campo e si fanno imbucare come niente quelli dell'Al Nasr attenzione ma il portiere ha fatto qualche paradina giusta l'ha fatta è scarsi in difesa però si sapeva beh d'altronde diciamo che tu hai Brozovic Fofanà Ottavio Liska Emanet cioè nessuno di questi è un centro campo però Mohamed uno come però Mohamed uno come Brozovic che ha una scuola scarsa come può dare una mano capito cioè hai visto da dove arriva no? doveva avere quella di Ekuban effettivamente quindi vuoi paragonare il grande Ekuban a Brozovic ma di che cosa stiamo parlando? signor Appagan l'audio l'audio che mi hai era inavovibile oggi Ekuban non è andata negli Emirati ma dopo la volta che il calco di palle non lo occupa fuori ma vi ricordate vi ricordate l'audio che ha inviato Gianluca dopo quale partita a un certo punto hai detto io Ekuban non lo voglio più vedere in campo la seconda aspetta Cagliari secondo me Cagliari cioè hai bestemmiato in 27 lingue hai detto io Ekuban cazzo non lo voglio più vedere in campo io sono convinto che il buon Ekuban farebbe panchina in queste partite qua non scherzare perché io non la seguo non la insultiamo il grande Ekuban lui è una cosa parte lui ma veramente guarda Greg la cosa allora di solito di solito un secondo di serietà di solito un ragazzo di colore da dove arrivano loro hanno tanta corsa tanto fisico normalmente no? dipende per genetica sì certo e lui non ha neanche capito anche là esistono i pipponi capito ci siamo fermati ci siamo fermati solamente a velocità e fisico non siamo andati oltre perché sennò qui ci bandano il canale ci sta che quella ce l'abbia la dote è nascosta io volevo farvi notare una cosa non so se avete notato che gli arbitri parlano in inglese con i calciatori neanche l'arabo ma perché quello si fa non sono arabi gli arbitri ma tutti i calciatori sono un'arabi non fa selfie ma guarda mi ha poco un firezza il selfie con l'ape vabbè con la sua futura moglie eh eh per forza dobbiamo portarci avanti qua no? capito sto schifoso pelusciofilo pelusciofilo zofilo insettofilo ora che appreggio di Brasic con la maglia della Lazio no la violenza sulle api esatto con il gioco mamma assolutamente noi condividiamo messaggi educativi eh ragazzi quindi no la violenza sulle api la Lilal ragazzi non è che fa niente di speciale semplicemente gioca a calcio e basta le altre sono tutte squadre che non giocano facciamo che la Lilal sta cercando di mantenere il controllo perché se no perde e vuole mantenersi il pareggio perché così rimane a più quattro diciamo la verità sembra il Genova sabato eh sì certo bravo fa il furbo è quello che farà l'Empoli capito noi andiamo solo alla vittoria noi giochiamo solo per la vittoria sì però non so non c'ha mica 90 minuti no non ci credo no meglio è però meglio però caspita Dimitri però abbi pazienza anche qui in Italia ci sono giocatori oddio ma quando è fuori ma dove ma dove ma che cosa l'ha ma dove è fuori gioco ma cosa sei visto questo ma cosa sei visto ma io veramente ce la stanno rubando ce la stanno rubando ce la rubano ma che è ci ora sto secondo tempo siete entrati bene in campo ma non c'è partita ma non c'è partita ma 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 quando parlate Talisca a che minuto siete porca troia 50 e 40 79 17 19 19 37 50 e 28 98 49 27 45 mamma mia che discrepanza ma noi siamo qui per i soldi non siamo qui comunque in realtà la prossima volta avremo un'idea pronto su discord magari streamiamoli guardiamo tutti lo stesso schermo così esatto è un'idea ecco come allora carico su discord il tablet poi però vale ad entrare in qualche modo se no riprendiamo la partita no non ci possiamo ci chiudono il canale poi a volte si che ci chiudono il canale cioè vorrei ci viene proprio Bill Salman vorrei farvi notare una roba eh ragazzi scusate ma di cosa parliamo ahia io ho paura ma di cosa stiamo parlando 67% contro il 33% hanno il coraggio di dire cioè hanno il coraggio di dire che ci sono il canale basta basta sciacquatevi la bocca quando parlate di sergione talista ma vergognatevi in casa stiamo parlando la rumba ragazzi con questo è rimasto ancora la talisca questo io vado indietro talisca a terra talisca a terra talisca a terra ho detto ti devi sciacquare la bocca quando devi parlare di sergione talista talisca si è fatto male no brutto qua qui non è è involontario però no stop è il calcio minore e stop l'unica cosa che ha saputo fare la Lidal è picchiare e basta ha un picchiato tutto il tempo stile colcio nero mi piace si sono inventati due fuorigiocchi inesistenti ma due fuorigiocchi inesistenti l'hai visti tu Gianluca sono netti c'è il fuorigiocco semi-automatico e anche lei non metta quei sfondi equivoci ma qui state facendo passare è che tutto quello è stato mistificato dall'arbitro ma vi rendete conto esatto guardiamo le salditi che sono più tiri dell'inali che altro ricordiamo è peggio della Juve ed è peggio della Juve benigia Luca dai non è vero è peggio della Juve cosa vi aspettate da gente che stanno sotto di noi e piangono mi ricordate gli interisti mi ricordate gli interisti quando perdevano i campionati e pensavano ad avere uno squadrone arrivavano settimi ottavi ogni anno quindi vergognati un bel fuori di prima punta un bel fuori di prima punta Ramengo sai quella è la cosa divertente che gli interisti erano talmente scemi e talmente talmente assurdi che avevano una squadra lercia e davano la colpa all'arbitro ti capi? ti capi? sembrate questi voi sembrate i gobbi che mistificano la realtà cioè sono stati condannati e pensate che c'è un metaverso dove tutti voi siete innocenti guarda di che cosa stiamo parlando? guarda un po' che si sta lamentando che picchiano e basta in tribunale non ci siamo finiti non ci sono finiti gli interisti ma i gobbi fate ridere come gli interisti e i gobbi fate ridere il Gregorio il Gregorio no mettemi il Gregorio subito accanto non lo è il Gregorio aspetta aspetta faccio io vai siete la vergogna d'arabia ricordate lei serio che fa Inter vero? io non tipo Inter io tipo la Nasser serio la Lilal voglio venire dalla sua parte Ramingo io ho fatto apposta traditore traditore senti Phil Inter si l'avevi vinta la Serie B? e non ci ho mai partecipato Tito quante Serie B avete vinto? quante Serie B avete vinto? quante? mi piacerebbe però partecipare alla Serie B sarebbe un bel campionato la vince e raggiungere la bacheca non ha vinto mai l'Inter zero ovo per favore vorrei perché vorrei compiere anche gli illeciti sportivi per essere per essere per essere mandato in Serie B a questo punto ha ragione è protesta contro il sistema per favore società mia io 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 voglio io dico una cosa al signor Marotta facciate degli illeciti sportivi perché ci possono mandare in me vincere un campionato al Marotta il nome di un occhio qua un occhio là è per Marotta è colo qua un occhio al campo e uno al mercato scusate la migliore giocata di Ronaldo in questa partita comunque io vorrei far vedere Mohamed che per protesta contro il sistema arabo che ha dato un rigore non ha dato un rigore netto netto ma lo cacci ma non è vero questo sta mistificando la realtà ma vedete questo è buonina questa è pazzina no amici questo è buonazzo no questa è arabia e qualcuno ha fatto la regola delle cinque dita ma è no Gian tornando seriamente io ho paura veramente che ci vecchiamo un pillolone di uno zero a zero bello potente io te l'ho detto guarda ve l'ho detto state a vedere cosa vi succede anche perché l'alilal non vuol giocare perché ovvio ma come non sta giocando l'alilal ma lei sta dicendo una ma Gianluca ma lo cacci ma non sta dicendo una marea ma qualcuno lo quereli per diffamazione signor Gianluca ma devo ripetere stavo facendo io ma non tocca boccia ragazzi non toccano boccia ma lei sta querelando ma lei va querelato io la querelo per diffamazione la fine partita Ronaldo dà il pallone agli avversari gli dice è questa la palla la vedete è questa qua attenzione attenzione ma vai 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 ecco ma guarda che cross ma come facciamo a perdere con questi qua dai su ma non è ancora sarà un tiro campioni d'asi io mi chiedo io mi chiedo io mi chiedo come abbiamo fatto noi a pareggiare con questi in precampionato cioè è una roba allucinante con chi avete giocato noi la prima giornata uscendo dal personaggio un attimo abbiamo giocato la prima gara di pre-season contro la Nars senza Cristiano Ronaldo tra l'altro se non mi ricordo hai detto niente togli l'autoro all'Inter e poi gioca ma non c'erano più non c'erano più è come togliere il cubano al Genoa ragazzi è uguale si ma ragazzi adesso questo qui fuori gioco fuori gioco netto e qui non dovete rompere le palle ma qua facciamo fuori gioco se siete sempre fuori gioco Ronaldo peggio di Monato ma sera vergognosi è una begogna begogna secondo me sei ancora in tempo di cambiare il carro Ronaldo sei fatto di dribblare da Coulibaly signori Coulibaly che dribblorando ho visto tutto ma scusate ma Milinkovic Savic sta giocando o è a cantare con i tifosi è a cantare con i tifosi secondo me ancora è una capatoglia Milinkovic Savic possiamo metterlo tra i peggioni in campo anche lui stasera dare Milinkovic anche lui deve iniziare la partita indifferita anche lui è come me e qua hanno il coraggio di dire che non sono mai in fuorigioco ma non era fuorigioco Ronaldo era in linea era in linea tutto il corpo che qua ma basta basta me ne vado me ne vado anch'io basta Greg si è intenso a cambiare carro ad appare in culo pezzi di merda schifosi che vergogna che vergogna qua la Champions agiatica voi no cioè qua al Pulisici devi capire che qua stiamo giocando contro l'arbitro siamo contro 12 si no è allucinante lasmetti lasmetti devi fare il pagliaccio sei un pagliaccio dovevamo stare 3 a 0 altro che qua io mi imbavaglio come Mario Giordano quindi ragazzi potevano mettergli la maglia blu all'arbitro che era lo stesso ma stai zitto non mi faccia parlare per favore carro andrete avanti per secoli a dire se c'era Neymar questa partita mi distorcio dagli insulti no non siamo milanisti che dicono se c'era se c'era Leao guarda questo fallo guarda questo fallo guarda la foto dei totti e gli scendela l'altra ma se c'era Lukaku che vuol dire se c'era se non c'era Lukaku era meglio effettivamente esatto credo che sia l'unica partita l'unica partita del campionato ragazzi è l'unica partita lo faccia parlare lo faccia parlare è l'unica partita che finisce 0-0 di tutto il campionato arabo esatto cioè questi fanno 7-0 3-0 4-5 ma sembra un po' Vinicius ma un figlio Vinicius tocca buttarlo tocca buttarlo giù allora mamma mia esatto infatti Alvaga inizia ad avere qualche incubo stanotte ma Greg tu sembrava la terza gamba d'Ecu occhio che qua il van ti arriva Daniel ma c'è un Gigi di Alessio qua che canta l'inno per esempio ragazzi ci stanno buttando Giulia che sono 0-0 mamma mia all'inizio mi hanno fatto anche il suo modo divertente mamma mia dalista è una partita inguardabile non riusciamo a fare un gol abbiamo fatto qualche follow Giulia questa è una gran partita ci guardiamo scrittate condivido la sua storia di a me a disposito tre ne abbiamo fatti mamma mia sono col calcio arabo è l'inizio questo Greg esatto 26 dicembre all'ITA da Nasr e questo lo dobbiamo guardare secondo me che fate dopo il pranzo di Natalizio di Santo Stefano guardate tanto non hai niente da fare si può fare si può fare insieme alla mia signora posso insieme alla mia fidanzata possiamo guardare il calcio arabo a parte che tutti dobbiamo guardare il calcio arabo dovrebbe essere mi manda a parte che mi mi manda a cagare mi lascia se gli dico una roba del genere ma quello è un altro discorso vuoi mettere il pallone di fronte all'amore signor Gregorio vuoi mettere il pallone di fronte all'amore no intanto attenzione è un dominio al Nasr cioè dove sta provando la fortapash stiamo facendo il tiro al piccione ragazzi questa è una partita sai cos'è Gian ma ragazzi ma a parte gli schiassi cioè sta partita qua finisce 0-0 non perché le squadre sono brave tatticamente ma perché fanno proprio schifo loro cioè come fanno questi qua essere primi io quello che mi come fate essere primi cioè veramente è incredibile per forza ma lo stadio è stracolmo ragazzi lo stadio è stracolmo comunque aspetta Gianluca non solo primi ma anche campioni d'Asia sì per forza giocate con gli arbitri fai silenzio mi ricorda una squadra europea questa però giocare con la maglia bianca è brutta che ti ha zanzato due finali di Champions ricordatelo che ti ha zanzato due finali di Champions League un gol in fuorigioco io allora comunque vorrei mettere il colo della Nasra però se me lo caricasse sempre con il detto di cartone sarebbe fantastico oddio 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 ragazzi primo squillo della Lilal ma non è finita ma non è finita mamma mia non è finita ma come godo sai che godo godo come un riccio godo 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 come un riccio appena nato ah Lilal no non ci posso non ci posso credere Luca è sceso è venuto adesso fammi vincere la partita e ha fatto un gol della Madonna Fumagini in campo anche il mostaggiatore come mai come mai i derby arabo non lo vinci mai tra l'altro rimane allora raccontiamo il gol è nato da una rimessa laterale cross in mezzo Milinkovic da da grande rapace colpo di testa alla destra alla destra del portiere nulla da fare per l'estremo difensore della Nathre e insergente insergente Milinkovic ci porta in vantaggio bonus di 50 milioni dove è ancora nello spogliatoio a farsi la doccia pie ma lo buttate fuori sto coglione dalla nata pie io me l'avevo detto io me l'avevo detto occhio che questo finisce male per te a parte gli schianti ha fatto un gran gol Milinkovic come diceva un tale atletico Madrid Italia che furto ma non è vero ma basta se l'arbitro avesse fischiato qualche volta in più ma se in il mondo ci fosse un po' di bene e se noi tutti no 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 comunque bellissimo è adesso a parte gli scherzi cioè ogni ma la CR spera come ti fa a mezza qua ci deve pensare CR7 dai no sono le sue partite Gian Cristiano segna per noi ragazzi CR7 è andato è cotto ormai è un excalciatore cioè non è decisivo neanche 38 anni ritirati CR7 ritirati 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 la rabbia che non vince un cazzo porca trova cioè la porta è veramente un bradipo mamma mia non vinci manco la rabbia non vincere mai niente oh mio Dio pulito pulito non è mai fallo è fallo continua regola del vantaggio va ancora la linea davanti non si ferma nessuno ritmi altissimi in questa partita straordinaria ma va ma per favore ma lei si vergogna oddio dai oddio mio no peccato che ladrata che furto signori che furto signori questa è una partita stupenda meravigliosa che vi invitiamo a guardare è un ritmo forse nato è un ritmo da grandi da grande la Premier League non è un cavolo in confronto ma tre secondi fa rompevi l'anima ma si rimane zero a zero che scarso la smetta la smetta cristiano ronaldo vicinissimo vicinissimo c'era un fallo grande quanto una casa eh ma è così nè 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 cos'è il calcio è diventato una giungla cazzo e ce ne avvano aspetta 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 soffi al lacrimino soffi al lacrimino sciarpata neanche neanche non mi può far scendere voglio stare accanto a lei da solo non mi riesco a stare accanto a questi ladri ma per favore la sciarpata per favore non puoi piangere per primi di non ci rimane ma deve fare la sciarpata intanto neanche fossimo alla rueta di san sebastian i colori sono quelli ma ancora meglio della capolista della squadra campione d'asia e non si ferma però qui la formazione perché la nato ci crede è fuori gioco di due metri è fuori gioco di due metri mi trovo era fuori gioco di due metri e la capolista se ne va se ne va saltano tutti è un tripudio è un tripudio riaddese è un tripudio tutto bianco blu che ladri solo i piangina possono dire perché chi si attacca all'arbitro è un provinciale come diceva il grande avvocato Agnelli e questa volta andiamo ragazzi adelante Adilal verso l'obiettivo verso l'obiettivo senza rubare a differenza di altri senza rubare a parte che Milinkovic si è appoggiato sull'avversario quando ci ha dato di testa ma vabbè si ma rimuove a perciore certa gente stavolta vergogna ritmi forzennatissimi ritmi forzennatissimi punte da orbi questo è un campionato ragazzi che va seguito tutto ricordatevi questo voi pensate alla vostra Serie A del cazzo noi siamo qui a commentare il futuro siamo dei pionieri e nessuno lo vuole dire questo siamo dei pionieri vaffanculo la Premier vaffanculo la Bundesliga vaffanculo vabbè la Liga la Serie A tutti questi campionati del cazzo di merda con squadre che vanno avanti con debiti enormi invece noi no puliti puliti anche con la puliti puliti anche perché qua non c'è la UEFA vergogna siete senza vergogna sporchi e puri come il Gange siamo noi puri come il Gange come un personaggio vicino via via esempio migliore non avrei potuto trovare puri come il Gange ragazzi ma che vergogna lo dico può dire solo lei che sta si sente intanto la casa del signor Gianluca El Pagan un rumore di legno che nemmeno vi immaginate ragazzi un rumore di legno uno dei castori del Canada ragazzi degni vergognosi ma la vergogna ce l'ha lei quando dice certe cose aspetta cerchiamo mamma mia è tutta la partita io che ho vinto a tu mai di te forza lalale dimmi che problemi hai i complessi che ti fai Nasrino chiacchierone quanta fantasia che hai un tifoso si sei tu scemo del secco del primo blu puoi cantare finchè vuoi ma la rabbia siamo noi belli nostri tifosi mi linko da quando ero piccolino tutto grazie a mio papà ho capito che era lalilal la squadra della città si poi c'era vate voi tra Ronaldo e Danny Bui tu non lo puoi ricordare non te lo posso anche spiegare ma quando eri in B tu non facevi ma che cacchio non me la ricordo ma chi se ne frega andiamo avanti l'improvvisazione è un'arte che esce quella pipa esce come direbbe esce se quella pipa tavica come direbbe il nostro buon Luigi di Inter for Passion che salutiamo per il quale mandiamo un grande abbraccio e dentro a Gareb che non so neanche chi sia non so neanche sua mamma secondo me chi è in questi 20 minuti ci credo c'hai ancora il re attenzione non ci credo il re è morto aspetta cos'hai detto Ramengo non ci credo ma ci spero non ci credo ma ci spero io ci credo fuorigioco è fuorigioco è un altro un altro fuorigioco inventato dai comunque sono andato a leggere stava arrivando un gol su carambola come piacciono a noi scusate cosa deve dire signor Albach chi è Albach Albach Daniel scusate non mi ero abituato Alilal 18 campionati sauditi a Nasr 9 va bene giocano con l'arbitro a favore senza vincere noi perché la storia gliela ha messo Cristiano non ha gol 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 però è fuorigioco fuorigioco è strano e andiamo avanti così però attenzione è schifo e poi dice a noi a te no barre più ragazzi è buono è buono barre più attenzione un attimo di tensione qua un attimo di tensione state caldivo che vergogna ma ragazzi per me è buono per me è buono a parte di scherzi per me è buono Cristiano pensaci tu Cristiano ma ragazzi ma è buono no non lo so come può essere buono seriamente lei è come fa pagando l'arbitro con questione di prospettiva voglio la linea voglio le linee c'è il fuorigioco semiautomatico quindi il cazzo di bomba ha tirato fuorigioco il cazzo di bomba ha tirato fuorigioco signore confermato si confermato fuorigioco semiautomatico c'è quindi non vi vergognate in arabia in asia ovunque per sempre blu c'è un lettore che ha portato lo smartphone con la posizione dal terzo al terzo al terzo arbitro è fantastica sta lega che ha portato lo smartphone davanti e adesso lo sto vedendo anch'io bellissimo voglio guardare l'ultima contro almeno così non protestano su varie queste cose no ma c'è lo semiautomatico che mi sa che anche lì è cazzo ma è la bomba i ragazzi era regolarissimo però voglio dire ma che cazzo sta dicendo non è la bomba gli unici che si stanno lamentando madri buffoni questo è uno scelto buffoni per il vero canto senza vergogna non si sta lamentando nessuna è già della Juve sono questi tre si stanno lamentando senza vergogna scusi no io non sto dicendo l'uno delle volte mi pare io non sto dicendo niente senza vergogna solo questi due si stanno lamentando e tutto il mondo è annato ma infatti sono loro questo un altro scoletto di cartone bravo bravo che sono più dieci un gol negato un gol annullato ma chi è? è arrivato Ricky è tornato Ricky buffoni eccolo muhammed ti sei perso il col di Bilinkovic ti sei perso quello di Ronaldo annullato ingiustamente ora voglio crederci dalla parte dei ladri vabbè poi me lo rivedo vabbè ma ragazzi ma non ci voglio credere ce l'hanno annullato per una stronzetta che fuorigioco è scusate aspetta non ci sto capendo è perché gli arbitri posso dire strano dalla vostra parte basta pagarli è fuorigioco c'è la spalla è fuorigioco è fuorigioco è la spalla c'era la risca c'era il barbicione a vederlo così non sembra tanto però non lo saprei ha ragione Zonandre guarda è fuori gioco 10 milioni 10 milioni esatto portafogli troppo grande che ladri giusto quella dovevi passare a Talisca a Talisca che era solo è biondo no l'arbitro l'allenatore madonna fantastico con l'iPhone che furto si è un grande posso dire una cosa non si vede la bandiera questa bandiera la presentiamo noi sì con il cash con il cash lo pagate voi questa bandiera che bandiera la presentiamo noi falla vedere Dani quella del dollaro del dollaro fumante del dollaro del dollaro del cash quella del cash fumante che furto che rapina è una squadra capito quando uno non sa perdere dice sempre che è colpa dell'arbitro che vergogna ma ma dove era fuori gioco ma dove era fuori gioco qua si vede chi è i campioni che giocano e chi ha i soldi da spendere non accetto critiche da chi si chiama ma 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 dai ma ma no dai sì minchi cosa vuoi anche rigore fammi capire ma a parte che siamo a tre quarti diciamo a tre quarti dell'area ha dato recupero 9.628 euro però euro ma questo qua col cellulare miliardi ma siamo già a recupero minchia no no si 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 pensa un po' io 76 euro 76 57 77 38 vengo da futuro 67 42 questi poveracci della nasda non hanno neanche una connessione decente buongiorno cioè c'è ma vergognatevi bravo mamma mia grande è casato è casato siamo soli contro tutti ragazzi anche lui anche lui nei perdenti penso a te che storia mi piace proprio essere nei perdenti eh beh c'è chi c'è chi è nato perdente c'è chi è nato vincente ma che cazzo di battura di merda è signor Vlasic ma non è la battura è dato di farlo è la battuta perché qui se no mi sta troppo vergogna mi sta già laggando tutto in questo luogo Brozo era insieme ai tifosi ha fatto cagare più o meno giocare volevo fare una battuta ma non far tanto ridere volevo dire che non c'era Milinkovic però dopo il gol non fa più ridere occhio che se provi a dire qualcosa Milinkovic te la tira un'altra pera è occhio esatto un'altra perché noi non li paghiamo gli arbitri quindi quando fate gol vabbè com'era il gol di ti ripeto mi ricordate gli interisti quando rompevano le palle che gli rubavano giacqua di Labbo che porta rispetto a Belfodil ma per favore Belfodil avevano uno squadrone dicevano stinteristi e poi arrivavano settimane quinti quarti terzi a penti punti dalla prima quale dell'Inter aspetta vai 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 porta rispetto a Zecchia e Schelotto per favore e a Nagatomo e a Taider a Pereira ma il divino Jonathan che trasformava l'acqua in Gatorade ragazzi il Palita me lo ricordo benissimo io figa che il Palita andavo fuori cioè l'Inter praticamente aveva fatto una campagna acquisti per prendere Alvaro Pereira io tutto gasato poi alla fine si è rivelato per quello che era una sega atomica cioè l'abbiamo preso da Ricky me lo ricordo che era del Porto se non mi ricordo male l'Alvaro Pereira e Ronaldo ride ride oltre a ridere non ha fatto niente Alvaro Pereira era veramente una sega avrebbe fatto un gol se qualcuno se qualcuno era il cuore gioco ma questo era un cuore gioco ma questo è un cuore gioco ridi ridi che mamma ha fatto gli occhi cioè veramente che furto ma che furto cosa ma basta io oggi devo seguire calcio con squadre che rubano soltanto ora la Lilal poi c'è la Juve c'è il Genoa sabato beh c'è il Milan ti ha zanzato una partita allucinante ricordo quest'anno vero rigori vediamo sabato caro mio vediamo vero rigori vediamo sabato sabato pomeriggio ti aspetto sì sì ha vado a Pere e ha preso dal Porto mamma che sola portate rispetto a Belfodil comunque per favore c'è Ronaldo che si lamenta e fa bene ma che si lamenta mica ma è pallo di brutto qua ma l'ha presa in mano la palla ma no bene parla rigore netto rigore netto netto l'ha presa di mano mi ricordo ancora mica è bello ricordo ancora quando dicevano si ricorda che una volta dicevano che Belfodil era meglio di Icardi quando era arrivato quindi giustamente io vorrei vivere un giorno alla Sistra per essere così si ricordi che il carissimo Belfodil è svincolato quindi ed era un bel giocatore ai tempi che furro Belfodil all'Empoli al posto di destro chissà com'è vivere la Sistra un giorno proprio triste non lo so non lo voglio sapere perché io non sono un perdente e non voglio essere un perdente ma te la diamo qui in casa Giorgia Giorgia si sciacchi la bocca e la zia Lucio la zia Lucio la zia Lucio sciacchi la bocca ti ha zitto che sta perdendo ti esco questo trapezio ma te quando quanto siete mamma mia Luigi ciao ma per favore state piangendo mamma mia è un'intera partita che state piangendo è il fallo è il rigore è quello è l'ammunizio perché noi giochiamo perché noi giochiamo appunto noi giochiamo noi giochiamo giochiamo male giocate male giocate male e va bene non me ne frega ma stai che giochiamo ma mi atalisca giocare bene ganar ganar evolvera ganar 3 però ragazzi però azioni rubate più che altro comunque è iniziata quanto posso è iniziata quella partita se finiva 4-1 non c'era niente da dire 4-1 finiva sta partita tutti zitti è iniziata quella partita tutti zitti ma più che altro come si può io mi troverei estraneato a giocare una partita del genere io fossi Ronaldo e queste cose qua non mi incazzerei nemmeno se mi annullassero un gol non è che si è alterato più di tanto non è che no ma prendere seriamente un campionato del genere Gianne ma prendere seriamente un campionato del genere scusami è la Serie A o la Premier League scusa dovete portare l'inspetto alla Serie A dovevo ringraziare il signor Cairo che ci ha regalato questa partita un applauso a Cairo un applauso un po' più o meno i tifosi del Toro non penso che l'hanno fatto rivedere Cairo ti vogliamo bene sempre partite così ti vogliamo 24 minuti di recupero dai ma che 24 adesso me la vedo in diretta ma tu ci ragioni Gianluca se tanno 24 minuti di recupero non lo fanno a favore vostro quindi la tua teoria del eh ma gli altri ne 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 e non è più dai ti darò più tempo per pareggiarla del rigore non dato del gol annullato pretendo pretendo 10 minuti di recupero pretendo le scuse ufficiali della federazione araba sì vabbè è arrivato qua vabbè piacere dai dai ricordiamolo sempre comunque non sapete perdere non sapete perdere infatti siete secondi ma sai non vincite ma lo faccio al Brasic non è che non sanno perdere non sanno neanche vabbè ancora 90 minuti hanno da finire eh sì sì ma Ramingo ce li annullano ce li annullano cioè vabbè ma questo è carica sul portiere eh fatteli regolari forse ve li assegnano se li fate regolari se non li fate regolari è un discorso molto semplice e a Ronaldo voi siete scherzate ma il trapezio ce l'ha cazzarò vabbè vabbè cazzarò dentro non è il nostro traprezzo e andiamo avanti così dentro no questo è carica sul portiere fallo di Ronaldo altro che sì certo vediamo è un altro giravolto e continuo adesso siamo eh minchia ragazzi è la piccola è sempre la del portiere ragazzi dai insomma facciamo i seri esatto è carica sul portiere fallo fallo di Ronaldo vabbè qui è la posizione oddio qui secondo me è un rigore sul Ronaldo questo minchia ma che casinca è detto ragazzi ma vergogna ma vergogna vergogna guarda che sta simulando guarda che sta simulando ma sta simulando che merda guarda che siamo tre e andiamo avanti guardatelo che vergogna vergogna la Juve d'Arabia ma che cosa Juve d'Arabia ma quanto vince secondo voi la Juventus ragazzi a occhi e croce secondo voi stasera ormai vince 2 a 0 3 a 0 gli ha dato un pugno in faccia riguarda i miei ma non 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 è anche preso è anche preso cacci lo cacci sto mentecatto lo cacci mi devo cacciare scusa io non stavo sentendo perché ero troppo preso dalla chi dei due lui lui stanno dicendo che questo no infatti si perché ha detto che ha dato un pugno non è vero non è vero questo è diffamazione ma che vuoi da me ma che vuoi da me questa è mistificazione mistificazione questo è ingannare il pubblico chi ti sta ascoltando qua sappiate che questi due sono dei grandi fatti ho gli 10 minuti di recupero è un estero è un estero senza ragionare guarda che rigore netto guarda un'epoca sa che squadra ti fare oggi sa che squadra ti fare oggi e chi non è onesto sa a chi ti fare vergognati questo si chiama rigore a chi non vengono venduti gli arbitri però c'è chi li compra e questo si chiama vittoria a chi non lo sa fare vabbè andiamo a fare il 2 a 0 dai Daniele della Juve vero? no sì sicuramente vabbè la Juve da rabbia sì lui ha una simpatia bravo bravo Rizzo la Juve da rabbia lui dice di essere dell'ambientico della Roma ma è un suo ma la Juve è il suo grande sogno vero allora la Juve sempre stagna da fine a bambino caldo io ragazzi Daniele della Juve è dell'altra città in amato no 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 il rinnovo di Griezmann è vicino sto godendo come un spruzzo vabbè ma si sapeva dici Al Pulisic non fanno un cazzo di cross comunque io vorrei farmi notare che Inter for Passion il nostro amico Luigi nei commenti ha mandato un messaggio per Al Vlasic che cosa vuole questo infatti anche Vlasic ti fa la razza Vlasic a Roma solo la razza ma mi spiega il perché c'è solo la razza no mi spiega il perché Vlasic stai zitto che è sotto il cuscino alla maglia della razza ma vai a fare in culo vai vai lei ti fa Fiorentina lei ti fa Fiorentina vergognatevi 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 non siete una squadra ma andate a cagare che l'ha arrivato col spotter col Dimitrovic che l'ha il portiere ma oggi Dimitrovic maggiore di Ronaldo ragazzi ragazzi fatelo cosa Vlasic dimmelo ora attenzione VAR dimmelo ora VAR vai VAR ma vai a fare in culo vai no no perché è regolare dai su facciamo i seri eh sì come quello di Ronaldo non facciamo perdere vergognatevi è regolare ora se glielo dà anche buono veramente è vergogna ma va a cagare non c'è niente vergogna rubate rubate vergogna 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 palo netto vergogna intanto vediamo il recupero che sarà di sette minuti sicuramente no no hashtag più sette più sette altro che c'era sette più sette alla sette se finisce la partita mi levo sta tunica io ve lo dico eh che vergogna siete scandalosi vergogna ma hai iniziato a comprarvi un portiere come si deve invece di rompere le palle dicendo che abbiamo rubato chi ha qui la bocca al Milan chi ha qui la bocca io ho vendato io la paravo così vestito così e fate così e vabbè guardi c'è l'ho vendente sempre fin da bambino infatti che schifo posso dire che è schifo? sì sì guarda nove minuti perché squadra tifa non penso che li finirò tutti e nove minuti eh lo sa che me ne vado via prima perché le larghe che vergogna senza vergogna ma scusate la Juventus a dieci minuti ancora non ha fatto gol strano dai è stato una questione di tempo quindi ma era fallonetto l'ha spinto fallonetto tu ti sarà spinto fallonetto per le squadre oneste ragazzi rigole per la Juventus ma questo mamma mia che fallo da 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 mamma mia è normale ma è netto il fallo Vlasic non lo so netto e sono tre e sono tre signori 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 incredibile la rabbia siamo noi va bene al nastro fatelo su su perché non lo fate non lo fate su la Juventus ha preso un rigore quindi il rigore è per la Juve è tutta colpa dell'Ape Maia bene l'Ape Maia la potrà buttare adesso dopo questo ripetere ripetere l'ambiente Dimitrovic 3 a 0 e la rabbia ultimi 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 senza Dimitrovic Gianluca 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 dimmi una cosa come ci sente a tifare due squadre che non vincono mai un cazzo il Genoa come ci si sentono ve lo dica ve lo dica ma non è che tu tipo il Real Madrid ha svegliato il rigore eh vabbè capita scusa scusa al Pulisic per favore questi campionati minori li possiamo lasciare un attimo da parte perché noi stiamo seguendo il miglior campionato del mondo guarda Ronaldo come piange Ronaldo che piange ma chi è che l'ha calciato il rigore Klaovic ma come si fa a perdere un scuscaro a uno della Linal ma non capito tre pere meno sette fa freddo o meno sette eh fa freddo o meno sette caspita tre tre a zero vediamo a ritorno risponderemo le braccia a casa tre a zero 4 a zero vergognate se ci davano un rigore netto e se non annullavano il gol era un'altra partita rubato intanto ti becchi tre pere e vai a casa meno sette meno sette fa freddo che furto che furto che è un spulso scusa è un spulso è un spulso per chi è un spulso e così la prossima senza voglio vedere cosa fate no faremo senza di lui no è finita no come senza vergogna vergogna adesso vogliono far segnare almeno tre gol guarda comunque ultima ora così vista per parlare ha fatto go ha fatto go no tele lombardie le sue reti affiliate hanno acquistato i diritti tv per la supercoppa spagnola che cazzo sei mangiato ancora la tele lombardia fantastico beh dai almeno questa volta posso guardare ce l'hanno rubata ramingo ci siamo mangiati il 4-0 questo era veramente tanto col moda ragazzi non è che avevo vinto non è che avevo molto speranza uno alla volta noi siamo gli onesti caro Gianluca noi siamo gli onesti bravo noi almeno ce le giochiamo guarda fallo netto non dato andiamo avanti così migliore esatto bravo scambio volentieri con Caputo e destro io anche con Ecuban no fatti i cazzini tuoi Gianluca mamma mia guarda con che abbiamo perso si mangiano gola a porta vuota abbiamo perso con degli scarponari non è nara ma anche Ecuban lo faceva anche Ecuban infatti persino Ecuban faceva gol lì ma come fai a dire che siamo scarsi se siamo sopra di te quindi vuol dire che tu sei forse lo faceva anche Giazi forse lo faceva anche Giazi ma ragazzi non volevamo umiliarvi cioè 4-0 ma siamo anche con l'uomo in meno quindi abbi pazienza facciamola con un arbitro impani no mi piace no mi piace esatto ha fatto la scenata di buttarlo fuori sul 3-0 al 95esimo quando ci ha rubato tutta la partita vergogna 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 anche quando quando hanno espulso il nostro giocatore abbiamo rubato uguale fantastico questo no non hai capito ragioni proprio da Alilal allora ho detto che hanno rubato tutta la partita hanno rubato tutta la partita 3-1 è fuori gioco e vedi andiamo avanti così dai non avete fatto uno regolare ma dovete farli regolari i gol allora no spiegate spiegate a questo uomo vi spiego cos'è il fuori gioco perché mi sa che non è spiegate a a quest'uomo tifoso della NAS che i gol devono essere regolari devono essere regolari ok non è fuori gioco questo è questo è la regolare però questo è la regolare vabbè hanno fatto vedere la posizione però è la regolare questo qui appunto vabbè forse era quello di prima di Ronaldo allora no questo non l'ho visto però c'era la spalla in fuori gioco siete solo dei buffoni bravo 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 pagliacci 4-3 abbiamo 4-3 pagliacci buffoni 4-3 ragazzi vergogna siete senza vergogna non vi sento io sono basso ma con onestà con onestà sono basso io sto sotto onestamente dove l'hanno visto sto fuori gioco veramente con i soldi Gianluco con i soldi l'hanno visto con gli occhi da pali dei dollaroni io sto basso ma onestamente io sto sotto con onestà minchia fantastico mono che adesso non è fuori gioco questo come fai a dire che Ronaldo non è in fuori gioco come cavolo fate lo vedete che siete degli alnasdrini siete dei bambini alnasdrini un pochettino particolari ma come fai a dire che non è in fuori gioco si sciacchi la bocca si sciacchi la bocca bravo bravo bravissimo speriamo ad inserire in seconda lì come cazzo si chiama ma avere le mani pulite questo si chiama stile empoli questo si chiama stile empoli quello scarso beh posso dire vergogna che cosa fa il portiere palla a piede ecco ecco qui era fuori gioco infatti ma che schifo schifo con la volta passata posso dire che vabbè Sadio Manelli è il secondo tempo mai visto un discorso serio un discorso serio per questa partita che è finita perché ormai l'abbè finita che spettacolo è il campo cristiano minchia assolutamente vergogna Daniel vergogna la vergogna la vergogna è la prova soltanto anzi vi dirò di più peggiore in campo l'arbitro l'arbitro la terna e il VAR tutti tutti ma voi ora voglio vedere ora voglio vedere se Alpardo ha il coraggio di farvi di sentire il VAR cosa ha detto a parte questo ma io io ha detto ci vediamo settimana prossima su youtube a zona da sonne e ce la risentiamo tutta ah perché hanno una zona da sonne loro ah perché hanno da sonne ah perché hanno da sonne ah perché hanno da sonne finisce la partita ragazzi mi levo tutto l'ultimo uomo l'ultimo uomo era l'ultimo uomo ma voi tifosi dell'analisi ma questo questo signore ci stava guadagnando un mezzo rigore questo signore questo bravo bravo pergione bionda talisca ti sopporto guarda ed è espulsione era da solo davanti al portiere ultimo uomo no ma io vi voglio chiedere una cosa ma voi vediamo che crescite eh vabbè ma mi fate finire porco quando dite queste stronzate ci credere davvero si si sciacqui la bocca può essere che ci crede si sciacqui la bocca no no mi fate subito mi fratello vergogna il problema è c'è proprio questo che ci credono davvero più sette più sette più sette a casa tornate nel vostro stadio lurido schifoso io me ne torno con dignità e onestà dignità e onestà dignità e onestà allora ragazzi purtroppo la live più bella di cui ci taglia è finita no come è finita c'è ancora un'ora e mezza di post partita fermi un'ora e mezza di post partita no no ho sentito ho sentito troppe lacrime basta per favore se sto pelando basta si è andato pianto abbastanza stasera siete vergognosi scusami faccio vedere la grafica di OneFootball che mangiamo i migliori e i peggiori aspetta 3 a 0 per noi no 3 a 0 a tavolino col cuore col cuore col cuore il talento e la passione e la passione che vergogna la forza difensiva il musetto comunque la Juventus ha segnato l'abbiamo visto faccio vedere la classifica vera che è questa ragazzi guardate un po' aspetta guarda si ma finisce qua la partita ragazzi perché ho l'impressione che ma si vergogni appunto ma si vergogni questa è la vera classifica io non vedo la Lila prima al Nasr secondo adevia è questa la vera classifica scusi ma io vedo sei un pagliaccio sei un pagliaccio Gianluca ma perché la prima inizia con il numero 2 e no perché il numero di arabi l'uno è vietato in Arabia l'uno è vietato in Arabia è vero è vero si si non l'ho trovato da nessuna parte non c'è non c'è non c'è perché è nostro l'uno ecco perché comunque vergogna ragazzi vergogna sarebbe finita 4-3 per noi ce l'hanno rubata ragazzi bisogna affrontare la realtà siete scarsi no 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 la verità la verità è che a casa dei ladri non si ruba mai e dopo questa chiudo è vero è possibile è possibile e non tornare mai più perché stai sparando una cadenza di cazzate caro mio era meglio ma dove ma sciacquati la bocca sciacquati l'ospite più atteso l'ospite più atteso ragazzi io vi lascio che devo andare un attimo a mangiare e poi torno al volo ok scusate vorremmo far vedere i top e flop no qua che vogliamo fare vabbè top ragazzi Militrovic mi sembra anche di top ma tranquillamente peggiore Malcom eccomi se lo inquadrassero eccolo qui ecco allora dell'Aliar chi sono i migliori e i peggiori per voi Militrovic il migliore peggiore Malcom peggiore boh eh sì forse sì non li conosco forse ne ha adesso non è che abbia fatto tanto allora Militrovic ma beh il migliore ma perché soprattutto il secondo tempo però il peggiore io direi sempre Militrovic perché ha fatto gol ma poi non si è più visto è vero comunque ti aspetti di più io ci do ha ragione Greg è Greg è Greg è Greg è Greg l'ho detto io coglione eh ho sbagliato di qual ah no aspetta il peggiore il peggiore del Nasr l'arbitro sicuro 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 Daniel non stiamo cantando Fofanà il peggiore Fofanà il peggiore no e il cortiere anche il peggiore è vero e poi posso perché Manet no io direi forse un pochino io ho visto tanto Talisca non benissimo però Talisca è il migliore dai ho la testa che esplode Talisca almeno peggio dai però però ci sono le statistiche la Lilal ha avuto il 36% di palla il resto l'ha avuto infatti l'abbiamo umiliati potete vivere il bel gioco potete vivere il bel gioco un pochino aspetta vai vedere diciamo l'XG umiliati scusate ok possesso ok possesso palla più sergione e il biondo Talisca com'è finita scusate umiliati com'è finita del bel gioco ci asciughiamo la minchia è questa la verità com'è finita la partita ve lo sapete dire disse Gregorio Malerba della Juve a questi perdenti veramente della Juve clippate vergognatevi io comunque no ora orissimamente questa live dovremmo inviarla a qualche tv araba lì con i sottotitoli comunque ragazzi posso dire che la Bobo TV ci sciacqua a casa esatto 16 13 spettatori 18 io voglio vedere signori oggi abbiamo fatto abbiamo fatto spettacolo abbiamo spaccato ragazzi ragazzi ma andiamo in maratona questo giro cioè allora ma io ho anche a mangiare bimbo anch'io me ne vado a mangiare tranquillo ragazzi 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 io devo farmi da mangiare devo farmi da mangiare poi devo fare non ce ne frega niente ciao ragazzi ciao vince ciao che cazzo stai facendo cos'è sta roba via 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 no la prima è classifica salutate la salutate la aspetta più 7 0 champions e tante lacrime arrivederci salutate la capolista salutate la capolista siamo la capolista della rabbia felice è te non so certo che sono felice rapina mano armata in quel di vabbè la cosa più interessante di questo campionato è la lotta per la salvezza dai diciamolo seriamente io confido ancora perché secondo me possono darci delle soddisfazioni secondo me la prossima la perde ci ha squalificato il numero 5 io non so come va a finire appunto non so come faranno senza il numero 5 perché scusate chi è che il numero 5 io non posso rimanere con questi perdenti è quello che ha buttato fuori eh ma non mi ricordo chi era aspetta te lo dico aspetta aspetta caro mio Dimitri neanche lei qui in Italia può festeggiare da capolista parla tu dici oh minchia parla un tiro del giro l'anno scorso si è vinto l'anno scorso che hai vinto la serie B dai per favore da capolista questo senza di questo sarà molto dura sì sicuramente infatti sicuramente giocatore fondamentale 24 anni ha un valore di 387 mila euro sì ha una faccia direi giocatore fondamentale come faranno adesso e tanto senza questo vedrai che penso che Ronaldo li fa tipo fa il valore Ronaldo i stessi soldi che del valore di questo qui li fa tipo in un minuto quanto? no guarda in un'ora ma secondo me Ronaldo sto qua lo compra per pulirgli casa altro che esatto va bene come stiamo vediamo o continuate con voi continuate ma io direi che ragazzi tanto poi dopo parti tu dopo Giulia questa live è ineguagliabile questa deve essere nella storia di Twitch Italia cioè deve essere incorniciata non so se ti rendete conto questa non c'è niente da dire se la pubbliciamo su YouTube tutta questa sul canale pubblicala ok perché secondo me cioè ora a parte siamo stati dei cazzari giusti dai su poi almeno tutti vedranno il furto si ha rubato l'anilano almeno tutti vedranno la partita vedranno il furto che c'è stato in questa partita così infatti esattamente questo beh dai ragazzi direi che possiamo chiudere qui la live buonasera tanto dicevo scusa dopo parte Giulia ricordiamo l'appuntamento di più tardi 21 e 45 mangiate in fretta e fuori insomma muovetevi esatto vi aspettate parlare di serie A tu è? e chi? così faccio partire il timer al rovescio io non ci sono hai già capito idea? subito subito ma io te l'ho detto allora Giulia passo io un quarto d'ora 20 minuti Giulia passo io un quarto d'ora 20 minuti mandami il link mandami il link non è vero che è quella che si è vestita meglio di tutte? sì dai ragazzi mando il timer così chiudiamo appuntamento alle 9 e 45 ragazzi con ring ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.